Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione del nostro decimo ICD-Rent, il nostro rapporto, la nostra analisi sul sistema urbano italiano. Oggi siamo in una conformazione particolare che chiamiamo ibrida, alcuni dei nostri colleghi sono qui intorno a questo tavolo, ecco lo vedete dall'immagine, alcuni li vedete sono in galleri dietro lo schermo, quindi parteciperanno ai lavori e altri ancora ci seguiranno attraverso lo streaming, mi sembra che fossero 500-600 partecipanti fino a qualche minuto fa. La logica ibrida non è solo in termini di trasmissione ma anche in termini di formato. Una prima parte sarà appunto la presentazione della ricerca con ritmi molto serrati, chiedo già scusa ai miei colleghi e alle mie colleghe ai quali terrò i tempi molto serrati perché appunto questo ci richiede lo streaming, tempi veloci, e poi in una seconda parte della mattinata ci fermeremo con coloro che sono qui, mangeremo qualcosa insieme e approfondiremo i temi che saranno emersi. Ovviamente poi il tutto vi verrà restituito attraverso articoli, report eccetera. Quindi due momenti, un momento di streaming, di partecipazione, tra l'altro chi ci sta seguendo può, nella nostra piattaforma di streaming c'è la possibilità di fare domande che mi verranno riportate, di fare commenti se volete, colleghi e colleghe che sono collegati appunto a distanza e altri che stanno qua. Decimo anno, in verità per chi ci conosce, per chi mi conosce, sa che questa è un'indagine che viene da lontano, ci sono diversi ex colleghi del Censis, lo ripetiamo spesso, è un interesse per le città digitali che nasce molti, molti anni fa, nasce nel 1996, è stato il primo report sulle città digitali, che poi abbiamo ripetuto per dieci anni in quel contesto e qui ripreso come FPA, come Forum PA. 1996, oggi, 25 anni, cosa è cambiato? Qualcosa è cambiato, non molto, non a sufficienza. Avete visto il famigerato indice desi che è uscito questi giorni, insomma contestato come a solito, come tutte le sintesi, ci registra, anche se qualcuno tra l'altro mette anche in discussione, diciamo così, questa performance positiva di cinque posizioni in avanti del Paese, da 25 esimi siamo diventati ventesimi, insomma rimane il fatto che scontiamo una decisa ritardo in termini appunto infrastrutturali, in termini culturali per quanto riguarda la trasformazione digitale. Qualcosa è cambiato, seppur si muove ho intitolato una serie di considerazioni, però non ancora a sufficienza. Sicuramente una lesson learned della pandemia è stata la lesson learned del fatto che il digitale non è una ciliegina sulla torta, è un qualche cosa, l'abbiamo visto confrontandoci con le diverse città che insomma continuiamo ad incontrare e a sentire, con le quali ci confrontiamo soprattutto nell'ambito del nostro City Club, questo momento di riflessione che abbiamo portato avanti quest'anno. Coloro che avevano investito in innovazione, in trasformazioni digitali sono state anche le città che magari hanno avuto più capacità di rispondere a quella che è stata l'emergenza. Sicuramente quello che manca, adesso spoilerando anche i risultati, la classifica è, non è vero, non vi dico la classifica, ce la dice Daniele dopo, alla fine di un sofferto processo e percorso, quello che manca ancora è una strategia probabilmente paese, ne parleremo, ne parleremo oggi, cioè pensare l'occasione che abbiamo davanti è un'occasione irripetibile, le risorse continuano a rassicurarci che ci saranno, dobbiamo assolutamente immaginarci un progetto paese che sia condiviso e che sia condiviso con i diversi territori e con le diverse città. Abbiamo tanti ospiti, ve li presento man mano che andremo avanti, confermo la presenza in chiusura del Ministro Giovannini, però appunto ve li presento man mano che andiamo avanti. Prima di cominciare, prima di cominciare con la presentazione dei risultati, Antonella Galdi, Antonella Galdi è vice segretario generale del Lanci, e grazie Antonella per essere venuta e per essere tra quelli che sono qui fisicamente. La domanda, come si vuol dire, sorge spontanea, appunto ci troviamo di fronte a un momento particolarissimo, un momento che in alcune occasioni ci ha fatto parlare di una nuova geografia urbana, un'occasione per rivedere il rapporto tra centri e periferie, tra città e le proprie aree metropolitane, tra nord, centro e sud, insomma un'occasione forse per immaginarci anche un nuovo sistema urbano. E' così? Oppure ti immagini che quello che abbiamo davanti non farà altro che rafforzare quelle che sono le gerarchie e i sistemi esistenti? Antonella, a te, come tutti gli altri, ripeto, ritmi serrati, tre o quattro minuti, poi ci torneremo nella seconda fase. Antonella Galdi, prego. Grazie, grazie mille. Intanto Gianni, permettimi di ringraziarti e di ringraziare tutti quanti voi per questa occasione oggi di incontro e soprattutto per il rapporto che presentate, perché è un'occasione interessante di confronto su dati e quindi non parliamo semplicemente di percezioni ma di analisi che voi avete fatto sugli otto elementi che avete misurato nelle diverse città e che poi oggi verranno presentati. Io non amo tanto le classifiche in termini di bravi e meno bravi, ma piuttosto il confronto nel capire il posizionamento di ogni singola realtà, come si sposta negli anni e se si sposta e quali sono gli elementi che in qualche modo sono ostativi. Perché io non credo che nessun amministratore locale, oggi ne abbiamo tanti qui presenti intorno al tavolo, di assessori che quotidianamente si impegnano nelle proprie realtà, non abbia chiaro la strada da seguire, non abbia chiaro gli obiettivi. Il punto dove ci troviamo è quasi sempre a scontrarci, sulle reali capacità poi di cogliere queste sfide e quindi io credo che anche oggi, senza appunto spoilerare la vostra classifica, però indubbiamente io temo che di stravolgimenti di chi era in fondo a una classifica qualche anno fa, potersi vedere proiettato in testa, diventa un po' complicato. Diventa complicato perché le amministrazioni poggiano il loro sviluppo su quelle che sono le competenze, la struttura amministrativa e gli investimenti fatti nel passato. Noi scontiamo in questi ultimi anni in termini di personale una riduzione del 25% e questo è un dato drammatico e importantissimo per consentire di procedere nei processi di innovazione. Abbiamo meno personale, meno personale significa anche meno competenze perché il personale che c'è è un personale che noi sappiamo in termini di età, in termini di formazione abbastanza anziano e quindi guardiamo, siamo tutti in attesa, speranzosa di queste modifiche introdotte dal nuovo governo, pensiamo alle significative indicazioni che arrivano dal ministro Brunetta, però anche con qualche preoccupazione, i meccanismi messi in atto che consentiranno un recruitment nella pubblica amministrazione locale significativo ci sembrano ancora un po' non così fluidi come vorremmo, diciamola così per essere buoni. Cioè quindi c'è un'attenzione forte da parte del governo a colmare questo divario in termini di personale all'interno delle amministrazioni proprio per consentire questo salto in termini di innovazione, di digitalizzazione delle stesse amministrazioni, le procedure che dovrebbero poi consentire l'arrivo di questo personale e comunque in ogni caso di poter realmente usufruire di risorse umane fresche per poter procedere non ci sembra ancora non messo veramente bene a punto e su questo ci stiamo lavorando. La richiesta ultima che noi abbiamo presentato proprio ieri in audizione per quanto riguarda la manovra è proprio di consentire perlomeno di avere un 2% di personale, delle quote di risorse assegnate comuni per il PNRR nelle disponibilità dei comuni per poter procedere autonomamente alla selezione di personale con contratti a tempo determinato. Quindi con una richiesta molto chiara, il rapporto anche fatto dal Presidente De Caro a Draghi di dare fiducia alle nostre amministrazioni, non mettiamo meccanismi, noi facciamo la domanda, la domanda viene valutata a livello centrale e poi dopo c'è la selezione, chi seleziona, chi arriva, come non arriva, dateci le risorse, selezioneremo personale adeguato, adeguato perché sappiamo benissimo qual è la sfida che dobbiamo fare. Rispetto alla tua domanda, geometrie cambieranno, io mi auguro, mi auguro proprio di sì, però questo lo facciamo, come detto, potendo contare sul risorso umano in grado di modificare gli attuali assetti, semplificando le procedure e anche qui ancora abbiamo tantissimo da fare, potremo immaginare dei disegni diversi, urbani, quando queste risorse messe a disposizione saranno accompagnate da una vera semplificazione. Ad oggi abbiamo dei segnali, ma sono solo ancora dei segnali. Noi ci auguriamo realmente per ogni singolo intervento, qui parlo del PNRR, ma non parliamo solo di quei fondi perché abbiamo a disposizione quelli delle politiche di coesione, abbiamo quelli della nuova manovra. Il problema, come sempre detto anche in passato, non sono le risorse economiche, sono la modalità attraverso la quale poter spendere queste risorse e consentirci quindi sì di ridefinire dei nuovi sistemi urbani. Ed ultima cosa, voi avete analizzato la digitalizzazione dei singoli servizi, quanti ne sono caricati sull'APIO e questo è un dato importante e significativo. Però non fermiamoci esclusivamente a quanto ho digitalizzato, ma in che modalità ho modificato i miei servizi. Quello che noi oggi chiediamo alle città, e molte si stanno impegnando in questo, è in una modifica e crescita dei servizi volti a garantire una migliore qualità della vita. Non è scontato che la digitalizzazione di un servizio corrisponda a un miglioramento della qualità dei servizi. Poi ne parliamo perché con alcune città amiche stiamo pensando anche a un progetto che vada a valutare una sorta di customer satisfaction messa in rete, quindi confronti i risultati perché come benissimo dici tu, non conto avere il servizio ma anche come ho usato la soddisfazione del servizio. Assolutamente, e in alcuni settori verticali, penso alla mobilità, che voi avete analizzato all'interno del vostro rapporto, è evidente che digitalizzare alcuni servizi è importante, ma questo deve essere accompagnato da polisi concrete. E forse il settore della mobilità è uno di quelli dove si nota evidentemente la necessità di integrare la digitalizzazione di un servizio e il cambio di alcune strategie di organizzazione in ambito urbano, cosa che devo dire i comuni stanno facendo. Ultima cosa, consentimi di ringraziare molti dei comuni che sono oggi qui presenti per il lavoro che stanno facendo con noi ai tavoli di Colau per la definizione delle varie misure previste all'interno del PNRR. Questa è per la prima volta, credo veramente, nella storia. Noi stiamo lavorando insieme all'amministrazione centrale nel costruire anche la struttura delle diverse piattaforme nazionali che poi i comuni saranno chiamati a diventare. Della serie non più come NPR ma qualcosa di diverso. Grazie, poi ritorneremo su questi argomenti. Velocissimo subito da Daniele per un primo flash di cosa è cambiato in questi dieci anni. Vai Daniele. Poi due commenti di Cruciani e di Giusti dal punto di vista dell'importanza appunto del dato statistico per governare i processi in campo. Se poi la regia mi va in auricolare chi sono i colleghi collegati io vorrei salutarli perché almeno quelli che sono a distanza magari li introduciamo. Ok? Vai Daniele. Grazie Gianni. Dunque, come ricordava Gianni Dominici, ha una storia lunga, è una graduatoria delle città italiane che è cambiata nel corso del tempo. È nata nel 2012 come indice delle città intelligenti, indice di smartness secondo i classici modelli degli indici di smartness in sei ambiti. Nel 2017 è stato introdotto l'indice di ambito delle trasformazioni digitali. dall'anno scorso, dal 2020, grazie anche alla collaborazione con NLX che è qui presente, abbiamo trasformato i city rank nell'indice proprio specifico delle trasformazioni digitali delle città italiane con otto indici settoriali e più di trenta indicatori. quest'anno l'abbiamo perfezionato e completato e oggi comprende sempre facendo riferimento agli stessi otto ambiti, agli stessi otto settori comprende trentasei indicatori. è naturalmente un indice relativo, cioè misura il posizionamento delle città per le modalità con cui è costruito ed è un indice in costante evoluzione metodologica. Quest'anno non solo abbiamo proseguito il lavoro del nostro comitato scientifico ma l'abbiamo allargato perché le città stesse hanno partecipato dando suggerimenti. Naturalmente noi possiamo rendere operativi i suggerimenti per i quali troviamo riscontro nella disponibilità dei dati. Quindi qual è la struttura? Abbiamo detto otto indici settoriali, noi misuriamo la presenza online dei servizi attraverso due indicatori, misuriamo l'attivazione delle app da parte delle amministrazioni comunali attraverso tre indicatori, misuriamo l'attivazione delle piattaforme abilitanti, Speed, Pago.pia e quant'altro, misuriamo e l'abbiamo presentato qualche settimana fa la presenza delle amministrazioni locali sui social, misuriamo il rilascio degli open data da parte dei comuni, misuriamo quest'anno l'indice di trasparenza che era basato sul vecchio bussola Magellano-PA che non è più stato aggiornato, quest'anno l'abbiamo trasformato in un indice di apertura che cerca di misurare in qualche modo come questi strumenti sono resi disponibili, misuriamo le reti e le modalità di attivazione del wifi pubblico e cerchiamo da qualche anno di misurare anche la diffusione dell'IoT e delle reti funzionali intelligenti nelle città. Questo lavoro si traduce nella selezione di 130 variabili che applicate a 107 amministrazioni comunali significa, parlo ai colleghi dell'Istat e del Tagliacarne, insomma una base di circa 14.000 dati elementari che noi rileviamo ogni anno. Quali sono le tendenze fondamentali? Le tendenze fondamentali le vedremo meglio dopo. Diciamo che la sensazione è che dopo il 2020 in cui c'era stata indotta dalla pandemia una crescita generalizzata nel 2021 torniamo ad avere una tendenza alla polarizzazione ma di questo ne parleremo meglio dopo. Ne parleremo, ne parleremo meglio dopo. Li hai annunciati già a te, un commento l'abbiamo detto nel portare avanti questi anni anche questi cambiamenti mitologici, per noi è importante il nostro comitato scientifico a quale ci riferiamo appunto per confrontarci su scelte che facciamo. Fanno parte il comitato scientifico Sandro Cruciani e Giacomo Giusti. Sandro Cruciani è direttore della direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali dell'Istat. Sandro, benvenuto. Stessa domanda per tutti e due, stessi ritmi per tutti e due. E' un momento di grandi cambiamenti, si parla tanto di data driven society, di data driven decision. Abbiamo visto quanto è importante prendere decisioni in un contesto come minimo turbolento, difficile che sta cambiando, come vi immaginate che sarà il ruolo in questo caso dell'Istat e poi del tagliacarni per i prossimi anni. Vai Sandro. Grazie intanto per questo invito e anche per l'opportunità di questa domanda che mi dà la possibilità di fare un commento generale sul tema della misurazione. Qui siamo in un momento storico in cui programmi internazionali, Green Deal, PNRR, politiche di coesione, la politica agraria comunitaria, stanno in questo momento proprio spiegando le loro potenzialità ma in un contesto in cui l'attenzione alla misurazione, faccio un ragionamento molto complessivo, è assai scarsa. Non ci sono misure, ad esempio, per migliorare la qualità dell'informazione, non parlo solo dell'informazione statistica ma il problema della misurazione degli obiettivi, del raggiungimento dei target, sono temi che, ad esempio, sul tema della politica agraria comunitaria sono all'attenzione di tutti e soprattutto all'attenzione dell'Europa. se vedete la bozza della politica, insomma, del piano dello sviluppo rurale italiano, ci sono tutta una serie di richieste di informazioni statistiche che al momento non possono essere misurate. ed è, diciamo, un po' un controsenso perché all'interno non ci sono neanche misure, finanziamenti, attività che sono protese a migliorare questa capacità complessiva dello Stato italiano di misurare il raggiungimento degli obiettivi anche per attività di monitoraggio. L'ISTAT in questo momento, in questo momento storico, sta lavorando fondamentalmente su due piani. Uno sulla massimizzazione dell'utilizzo dei dati amministrativi attraverso il sistema dei registri. Il sistema dei registri significa sostanzialmente la combinazione intelligente di tutti gli archivi che le amministrazioni pubbliche e non pubbliche producono per i loro obiettivi, ovviamente. trasformando l'integrazione e quindi anche la connessione tra questi archivi in registri di tipo statistico. Questo consentirà, ad esempio, il censimento della popolazione che adesso è passato da decennale ad annuale, è uno di questi esempi. Il censimento si basa proprio su un registro incrociato di informazioni che provengono dai comuni, dalle amministrazioni, dai ministeri e quant'altro. Questo porterà sicuramente, è un processo molto lungo, ne ho parlato già l'anno scorso, quindi non vorrei ripetermi, è un processo molto lungo, ma che comunque porterà a un enorme incremento dell'informazione statistica, ma soprattutto con un fortissimo dettaglio territoriale. siamo nella potenzialità di arrivare, almeno nei grandi comuni, a livelli di partizioni subcomunali, quindi lì dove forse nelle politiche urbane vengono svolte la maggior parte delle politiche. Quindi diciamo, ecco, questo è un altro elemento legato alla misurazione che non sempre traspare, che è vero che la dimensione del Comune è una dimensione importante per le politiche, ma in alcune realtà non è ancora sufficiente, bisogna scendere ancora più nel dettaglio e su questo è quello che noi stiamo facendo e stiamo lavorando. L'altro filone che stiamo cercando di percorrere, anche grazie a finevenziamenti delle politiche di coesione, è l'integrazione di tutti i dati territoriali a disposizione. Noi abbiamo costruito negli anni scorsi, ed è tuttora uno dei prodotti più consultati dell'Istat, l'Atlante Statistico dei Comuni, che raccoglie appunto informazione a base comunale, siamo arrivati a circa 600 variabili aggregabili secondo una settantina di territori di varia natura. Stiamo cercando di evolvere questo prodotto verso un Atlante Statistico del Territorio, un Atlante Statistico del Territorio che raccoglie non solo la dimensione comunale, ma anche tutte le altre dimensioni che sono utili per le politiche, le regioni, le province, le comunità montane e tutte le altre dimensioni della politica amministrativa. Quindi questo è lo sforzo. Terzo elemento, poi mi taccio perché già vedo che il cronometro è arrivato a zero, e mi spingi il pulsante, è quello dell'utilizzo dei dati geografici, dei dati di immagine, dati da satellite, fotointerpretazione e quant'altro. Abbiamo per esempio adesso già, e lo presenteremo tra poco, una statistica sperimentale sulle aree verdi e urbane. Mi taccio. Grazie, grazie Sandro. Nel dare la parola a Giacomo, chiederei alla regia di cambiare logica. Ci mandate sul grande schermo e sul programma, e anche qui, perché se no in effetti siamo tanti, chi parla non si vede. Invece della slide up ci mettete il programma, sia qui che dietro. Grazie, vai Giacomo, stessa domanda. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Beh, noi stiamo facendo un bilancio di dieci anni sostanzialmente di rivoluzione della digitalizzazione e della pubblica amministrazione. Voglio fare, colgo l'occasione per fare anch'io un bilancio di questi ultimi dieci anni sulla conoscenza economica dei territori, che è l'ambito in cui il sistema camerale, delle camere di commercio in cui il centro studio opera, ha il suo core business, se così possiamo definirlo. Beh, grazie al lavoro importantissimo, soprattutto nel sistema dei registri di cui parlava Sandro Cruciani poco fa, oggi noi sappiamo tantissime cose in più rispetto a dieci anni, quindici anni fa, sulla geografia economica del nostro paese. Sappiamo sostanzialmente, come dire, le caratteristiche economiche delle città contrapposte a quelle che possiamo definire periferie, e sappiamo che oggi sostanzialmente le città sono essenzialmente il motore dello sviluppo del nostro paese. Cito semplicemente due dati, il valore aggiunto pro capite delle città è valutabile oggi intorno ai 37 mila euro a frutta dei 22 mila euro del resto del territorio, quindi chiamiamolo delle periferie. Quindi già un divario molto importante che richiama sostanzialmente, come dire, il divario nord-sud storicamente presente all'interno del nostro paese. Esercizi come, diciamo così, anche magari riduttivo definire gli esercizi, ambiti di lavoro come quello a cui stiamo presenziando oggi, sostanzialmente sono molto importanti per due ordini motivi. Il primo focalizzano il territorio, che quindi sostanzialmente va in continuità un pochino con la mission del sistema camerale, e quindi fondamentalmente è già un punto di merito rispetto a tante esperienze che continuano a vedere fondamentalmente il nostro paese come un territorio, come un tutt'uno, molto aggregato. Il secondo aspetto, particolarmente positivo di questa tipologia di ricerca, è quello del fatto fondamentalmente anche di avvalersi di fonti informative abbastanza nuove, se vogliamo, rispetto a quelle tradizionali, grazie alle elevazioni proprie che vengono realizzate, e anche, diciamo così, come dire, alla messa a punto di nuovi strumenti di misurazione. Quello che manca, per certi aspetti, ma è una sfida su cui stiamo lavorando anche noi, per certi aspetti, è quello di incrementare questo, diciamo così, livello di conoscenza, di livello di digitalizzazione dei territori italiani, cercando di esserlo, voi avete fatto un lavoro eccellente per quanto riguarda il periodo dell'EPA, ma anche ovviamente tutta la parte della digitalizzazione sul territorio, da parte del sistema imprenditoriale, del mondo economico, ecco, voglio dire, ci sono chiaramente già, e mi ritorno diciamo così al mondo istat, sostanzialmente tutta una serie di rilevazioni, ma è chiaro che da questo punto di vista dobbiamo, diciamo così, sviluppare un pochettino di più il tema, proprio per raggiungere, diciamo così, quella microterritorialità che effettivamente, come diceva Sandro Cucciani, in alcuni territori assuramente essenziali, io ricordo un'esperienza che noi facemmo nell'ambito dell'Osservatorio del Commercio per la Regione Lazio, stiamo parlando ormai di 15 anni fa, in cui vedemmo fondamentalmente che a livello di reddito disponibile c'è una discrepanza, o c'è una differenziale di 3 a 1 tra i parioli adesso, per chi, diciamo così, non è romano, diciamo così, è la zona più in della città, contro la borghesiana che è una periferia estrema della città, quindi un rapporto di 3 a 1 che fa capire molte cose sul fatto che in alcuni ambiti territoriali, in alcune città molto importanti, il Comune è semplicemente, diciamo così, un livello intermedio su cui, oltre al quale è necessario scendere. Quindi fondamentalmente una delle grandi sfide che, ripeto, impegnerà anche il sistema camerale, diciamo così, nel prossimo futuro, è quello di ampliare questo discorso della digitalizzazione, della misurazione appunto della digitalizzazione, estendendolo appunto al sistema delle imprese. Altri aspetti sono fondamentalmente importanti che, diciamo così, una misurazione della digitalizzazione può dare, e mi taccio entro un minuto fondamentalmente, è quello, diciamo così, come dire, che oggi come oggi quel risultato che vi dicevo all'inizio di migliori performance delle città rispetto al resto del Paese, deriva non tanto dalla presenza di attività maggior valore aggiunto nelle città rispetto agli altri territori, questo non è vero, se è vero è soltanto vero parzialmente, ma è legato al fatto che all'interno delle città c'è molta più economia rispetto al resto del territorio. E allora, a questo punto, non volendo chiaramente togliere economia alle città, è necessario, come dire, anche un ripensamento dei modelli economici, se vogliamo, e strumenti di digitalizzazione, legati alla digitalizzazione come lo smart working, la DAD, possono consentire, come dire, se utilizzarli ovviamente con un certo raziocinio, di, come dire, di andare incontro a quel problema, quella questione di diminuire un pochettino la pressione sulle città, appunto, del valore economico stesso delle città. Grazie Giacomo, vi devo tenere stretti perché oggi vi vedo praticamente loquaci. Grazie comunque, grazie, sì, ma i tempi sono questi, i ritmi sono questi, il gioco è questo. Daniele Figara, quindi, neanche lo introduco, la narrazione, come si dice, è sugli otto capitoli e poi andiamo a vedere la sintesi finale, quindi capitolo per capitolo rispetto a quella parte che abbiamo, alle otto dimensioni che abbiamo introdotto. Quindi il primo sono i servizi digitali. Benissimo, magari per questo prenderò un minuto in più, così spiego la metodologia di ogni capitolo e poi negli altri prenderò un minuto in meno. Sono sette, ci guadagni nel cambio. Il primo indice che noi consideriamo, il primo ambito, è l'attivazione dei servizi online. È il settore che ha avuto una grande spinta nel corso del 2020, collegato alle vicende della pandemia. Che informazioni mettiamo noi a disposizione? Innanzitutto, noi, questo indice è basato su una metodologia di rilevazione che si ispira a quella utilizzata dall'Istat nelle statistiche sulle città dove appunto rileva i servizi che vengono attivati. Ma da due anni noi procediamo a una rilevazione diretta, due volte l'anno, di un campione di servizi digitali e grazie a questo possiamo costruire quello che chiamiamo un vero e proprio indice di disponibilità dei servizi online nei comuni italiani che vedete rappresentato in questo grafico e che ci dà la misura della crescita del fenomeno. Su dieci servizi in 107 comuni, cioè 1.070 possibili caselle, alla fine del 2019 ne era coperto il 41%, oggi siamo al 67%. I comuni che hanno online otto o più di questi dieci servizi, cioè i comuni che secondo noi hanno raggiunto una maturità digitale su questo fronte completa sono passati dai 10 della fine del 2019 ai 48 della fine del 2021. Dal grafico vedete anche, diciamo, la controprova di una considerazione che ci siamo ripetuti tantissime volte, cioè la spinta dovuta alla fase della pandemia. Vedete infatti che tra l'autunno del 2019 e la fine della primavera del 2020 si ha proprio un balzo in avanti, il passaggio dal 41 al 53%. Noi cercheremo di riprodurre, per ogni indice che abbiamo considerato, abbiamo cercato di costruire anche, non solo la graficità, ma anche una serie storica del fenomeno nella sua complessità. Qui vedete l'elenco dei servizi online che abbiamo misurato con la presenza che abbiamo verificato città per città, diciamo uno per uno i dieci servizi che abbiamo verificato. Peraltro su questo appunto facciamo due rilevazioni là. Cosa succede? Alla fine qual è il risultato? Quali sono le top 10 città per questo indice? E ripeteremo questa slide per tutti e otto gli indici. In testa, in questo caso, troviamo tre città medio-grandi. Bergamo, Cremona e Verona, seguite a brevissima distanza da Piacenza, che precedono Milano, Pisa, Bari, Modena, Palermo e Pavia, tutte su livelli molto alti. Per ogni indice noi compiamo una duplice analisi. Un'analisi di tipo territoriale e un'analisi di tipo dimensionale. È molto semplificata per essere comunicata. Abbiamo diviso la graduatoria in tre terzili, i terzili statistici, cioè in tre terzi, i primi 35, i secondi 36, gli ultimi... Beh, adesso facciamo i conti. E poi li esponiamo l'appartenenza a questi fasce della graduatoria suddivisa per le ripartizioni territoriali. Vedete subito che esiste una questione meridionale digitale. Cioè, dal punto di vista dei servizi online, tra i comuni settentrionali quasi il 50% è nel terzo elevato della graduatoria, poco più del 20% tra i comuni del centro Italia, ancora meno nel meridione. Lo scarto è ampio e molto evidente. Stesso meccanismo logico per la dimensione demografica delle amministrazioni comunali che ci consente di dare una illustrazione della seconda variabile strutturale che condiziona questi fenomeni. Vedete che, diciamo, quasi la totalità, tranne una delle città, delle 12 città con oltre 250.000 abitanti, si collocano nella fascia alta e poi si va via via a scendere fino a trovare solamente 3 dei 24 capoluoghi con meno di 50.000 abitanti collocati nella fascia alta della graduatoria. Grazie, grazie Daniele. E allora il primo commento, la struttura è questa, una dimensione e un commento dalle città. Il primo commento è da parte di Maurizio Manzi, Maurizio Manzi è assessore all'innovazione del Comune di Cremona, assessore al bilancio, innovazione e digitalizzazione del Comune di Cremona. Ciao Maurizio, per te Sesseriti mi dispiace, spero tutto bene. La prossima volta spero di averti qui. Vai! Va bene, grazie, un saluto a tutti e grazie per l'invito. Allora, che dire, ci confermiamo ancora nelle primissime posizioni insieme ad altre città meritevoli di questa citazione. Cosa ha fatto Cremona? Cremona è partita diversi anni fa con tre aspetti fondamentali. Ci siamo subito resi conto che era importantissimo, oltre a rendere disponibili dei servizi digitali, anche completare i servizi digitali, anche attraverso la possibilità per gli utenti di non, oltre che non venire prioritariamente agli sportelli, e quindi fare tutto da remoto, ma anche qualora necessitassero e non ci fossero possibilità di farlo da remoto, anche venire agli sportelli, ma rapidamente assolvere i loro compiti. E questo è stato veramente molto importante anche quando abbiamo avuto la chiusura, il lockdown. Cremona, come sapete, è stata una delle città più toccate dal Covid, quindi il fatto di essere pronti anche con questo ci ha aiutato tantissimo. La terza cosa è la possibilità anche di visualizzare situazioni personali, quindi chiamiamolo fascicolo del cittadino. Quindi abbiamo integrato questi servizi che sono stati citati da Daniele poco fa, anche con altri servizi che sono sicuramente importanti e che aiutano tantissimo. L'altra cosa è l'integrazione tra i servizi e le piattaforme militanti. Cioè non possono essere disgiunte, quindi i servizi ovviamente devono basarsi su Speed, perché ormai Speed o Cie o CNS, ma soprattutto Speed e Cie, per accedere ai servizi, ma anche su Pago.pia e l'app Pio. Ormai noi abbiamo fatto lo switch-up su Pago.pia, quindi praticamente tutti i pagamenti, tranne pochissimi, avvengono direttamente sull'app Io, oppure anche attraverso comunque la piattaforma Pago.pia. Pochissimi pagamenti avvengono ancora con metodo tradizionale, ancora qualcosa allo sportello, previa prenotazione e non con denaro contante. Quindi praticamente con Pago.pia abbiamo spinto molto per lo switch-off. Che cosa ci aspetta ancora? Siamo assolutamente convinti che non siamo arrivati al traguardo, all'obiettivo finale. Dobbiamo assolutamente porre molta attenzione a migliorare la user experience dei servizi digitali. Questa è l'indicazione che abbiamo dei nostri cittadini. Non possiamo dimenticare le fasce deboli della popolazione. C'è indubbiamente ancora un digital divide che è ancora ben evidente. E quindi c'è anche un po' di resistenza, se vogliamo, anche interna per andare verso i servizi digitali. Grazie Maurizio. Quindi questo è quello che noi stiamo facendo. Tra l'altro devo dire che il portale di Cremona si distingue proprio anche invece per chiarezza. Quindi questo lavoro voi l'avete già avviato, quello di mettere a disposizione dei cittadini, delle cittadine i servizi anche in maniera molto efficace e comunicativa. Quindi devo dire che è una strada già da voi avviata. Grazie Maurizio, grazie a caso. Ormai appunto rimani in linea, poi partecipi se vuoi alla discussione. Seconda dimensione, la seconda dimensione sono le app, l'app economy. Sappiamo che anche questa è una dimensione un pochino più recente rispetto a quella tradizionale dei servizi digitali. Anche questa è frutto di una nostra rilevazione. Sappiamo benissimo, inutile che rubo tempo a questi ritmi forse nati, che l'app economy in questo momento è un punto di riferimento per lo sviluppo dei servizi digitali e tra l'altro una dimensione, una cultura fatta proprio dall'appio, cioè portare comunque non i cittadini verso i portali, ma i portali verso i cittadini e i device. Vai Daniele con la dimensione app municipali. Dunque, seconda dimensione, la trasformazione digitale non è solo rendere in modo digitale online i servizi tradizionali, anche crearne di nuovi, crearne di nuovi attraverso le app. Come la misuriamo? Anche qui ci ispiriamo alla modalità di misurazione Istat, che misura la presenza delle app in determinati ambiti, di almeno un'app per ciascuno di determinati ambiti. Noi integriamo le rilevazioni Istat che hanno un leg temporale, si riferiscono ad anni precedenti, con due strumenti. Il questionario che somministriamo alle amministrazioni comunali è una rilevazione diretta sui siti istituzionali delle amministrazioni in cui andiamo a verificare l'effettiva esistenza o quantomeno la facile raggiungibilità di quelle app. Anche qui una misurazione di andamento. Qui diciamo l'andamento è meno esplosivo di quello registrato per i servizi online, anche qui diciamo c'è un criterio di grado di copertura, noi abbiamo considerato sei ambiti, quindi diciamo teoricamente è un indice 6 per 107, quali sono quelli effettivamente coperti e vediamo anche in questo caso la crescita, anche se ripeto meno esplosiva, con un passaggio dal 48% dell'indice di copertura alla fine del 2019 al 57% alla fine del 2021. Comuni maturi, completi, con app in almeno 5 settori, comuni capoluogo, erano 28, sono diventati 32. quali sono gli ambiti che noi controlliamo, app di tipo promozionale, culturale, turistico, informazioni su dove e cosa succede in città, app sulla gestione dei rifiuti, app di gestione della mobilità, delle più varie, dai city planner al pagamento dei parcheggi, app di tipo istituzionale, comunico con l'amministrazione questo, ricevo dall'amministrazione quest'altro, app sulla sicurezza, alert, problemi, fenomeni in città, e altre app. Vedete che il più, diciamo, il più riscontrato sono le app sulla mobilità. O le app possono essere prodotte direttamente o indirettamente dalle amministrazioni, cioè se le mette a disposizione l'azienda di servizi che si occupa del servizio in quel comune, noi lo consideriamo un'app relativa a quella amministrazione comunale. Qual è la classifica? Vedete, un consistente gruppo di città ai vertici, Firenze, Modena, Napoli, i nostri indici che vedete qui sono indici relativi, relativi, cioè il primo ha sempre mille, per capirci, perché serve, ciascun indice viene standardizzato in un valore 0.000 in modo da poterne poi fare la media in cui tutti pesano lo stesso. Quindi ai vertici, qui troviamo Firenze, Modena, Napoli, Padova, Parma, Reggio Emilia e Trento, seguite a brevissima distanza da Milano, Roma e Torino. Stesse due analisi strutturali presentate per l'indice precedente, qui se è possibile è ancora più netto lo scarto tra il settentrione e il resto d'Italia, vedete che nel settentrione quasi il 50% delle amministrazioni comunali nella fascia alta, nel centro e nel meridione meno del 20% e ancora più netta è lo scarto dimensionale e qui diciamo è veramente brutalmente progressivo. Grazie e allora il commento è di Ines, Ines Seletti assessora all'innovazione tecnologica, semplificazione, scuola, formazione professionale del comune di Parma, abbiamo visto Ines che Parma è ai vertici, il nostro commento è che è ai vertici non solo per il numero di app e la qualità ma anche anche in questo caso come per la comunicazione, per la semplicità con le quali sono proposte ai cittadini e alle cittadine. Vai Ines, benvenuta intanto. Grazie intanto Gianni di averci invitato qui stamattina e devo dire che quella delle app è stata una scelta che abbiamo fatto qualche anno fa, Parma è città universitaria per cui in un'occasione di un meeting in cui ho dovuto relazionare all'interno del nostro campus universitario avevo di fronte tantissimi ragazzi che facevano ingegneria dell'informazione ed erano stesi dopo due ore di interventi diciamo un po' così impegnativi da parte di chi mi ha preceduto al che io ho detto ragazzi tirate fuori il cellulare chi di voi scaricherà nel più breve tempo possibile le applicazioni del portale del Comune di Parma avrà la possibilità di accedere a fare una visita guidata all'interno dei locali che abbiamo del data center di Lepida che sono a Parma la risposta immediata che loro hanno avuto ha fatto sì che scattassi in noi la volontà di rendere disponibili più possibili applicazioni che fossero alla loro portata però questo ovviamente ha fatto sì che ci fosse poi il problema di non lasciare indietro quella parte di popolazione che ha problemi invece nell'utilizzare l'innovazione di conseguenza grazie al fatto che su Parma è fortissimo anche l'associazionismo abbiamo utilizzato enti di volontariato che facevano aiutavano la popolazione in difficoltà e questo ci è venuto soprattutto in aiuto anche nel periodo covid per aiutarli ad utilizzare al meglio le applicazioni che abbiamo poi abbiamo anche la fortuna di avere un ente di formazione che sta garantendo l'ente di formazione del Comune di Parma sta garantendo corsi gratuiti a tutta la popolazione che hanno necessità di utilizzare in modo semplice queste applicazioni siamo Parma città capitale della cultura per cui questo ci ha dato lo spunto per fare un'applicazione per la cultura per il turismo che potesse in qualche modo agevolarci ovviamente abbiamo dovuto fare delle scelte perché come diceva Antonella Galdi di Anci prima il taglio del personale soprattutto nei comuni della nostra dimensione è un fattore molto rilevante per cui abbiamo scelto non avevamo fino a un mese fa un dirigente all'innovazione che sapesse di innovazione ma erano tutti interim per cui l'assessore doveva fare oltre a delle scelte politiche anche delle scelte tecniche quello che abbiamo fatto noi è di puntare su alcuni settori abbiamo tralasciato ad esempio abbiamo deciso di tralasciare l'open data che ci vedrà magari nei prossimi anni più attivi ma di dedicarci in modo ogni anno sceglievamo un ambiente strategico per fare questa innovazione siamo partiti dagli educativi perché appunto ho questa doppia delega per poi passare ad altri settori proprio oggi in onore di questa pubblicazione di CityRank passeremo sull'applicazione io altri 20 attività per rendere ancora più ovviamente innovativa la nostra la nostra amministrazione stiamo lavorando al rifacimento completo del portale questo è il prossimo obiettivo che ci diamo quello che è interessante è che in questa crescita noi abbiamo una crescita costante eravamo undicesimi l'anno scorso non dovevo dirlo tolgo quello che ho detto non sappiamo come saremo quest'anno però insomma se siamo qua un motivo ci sarà da che ce l'abbiamo fatta spoilerare no non ho detto niente l'anno scorso eravamo undicesimi ma l'importante quello che mi sento di consigliare a chi sta ascoltando è di non arrendersi mai anche con le poche energie che si hanno di utili di verificare quali potrebbero essere gli obiettivi strategici e puntare su uno di questi l'altra cosa che stiamo facendo poi chiudo è di non lasciare indietro i comuni della provincia per cui ci stiamo occupando di fare un gruppo di lavoro per poter rendere estremamente innovativi anche i nostri comuni perché non può essere solo il comune capoluogo un comune che va che spinge ma è nostra responsabilità far sì che anche loro possono seguirci in questo percorso grazie Ines devo allora spiegare come è il meccanismo la classifica o meglio il rapporto viene da noi custodito gelosamente fino all'ultimo minuto a coloro che devono parlare il giorno della presentazione noi diamo il rapporto la sera prima ovviamente con l'embargo così per loro che per i giornalisti quindi sono embargato fino a mezzogiorno quindi Ines ha rotto l'embargo non è vero scherzo non ho detto niente terza dimensione le piattaforme abilitanti vai Daniele sì diciamo lo ricordava prima Maurizio ma anzi cioè mettere i servizi online ma anche attivare gli strumenti come misuriamo questa dimensione questo è un indice da diverso tempo presente in ICT Rank che ogni anno cambia perché ogni anno cambiano le cose oggi era inutile rimettere l'indice su chi c'ha ANPR perché diciamo ce l'hanno tutti allora quindi è un indice che cambia metodologicamente ogni anno misuriamo quattro quattro piattaforme abilitanti l'utilizzo di speed nei servizi online l'utilizzo di C e O CNS uno o almeno uno dei due sempre nei servizi online le transazioni di Pago PA e diciamo il numero dei servizi alla data della nostra rilevazione è già messi sulla APO quindi diciamo Parma non ha fatto in tempo con i nuovi anche qui cominciamo da qualche dato di andamento beh ce n'è uno che a me sembra particolarmente simbolico nella rilevazione che abbiamo fatto quest'anno l'indice che rapporta il numero delle transazioni comuni su Pago PA al numero degli abitanti nei 107 comuni capoluogo ha superato il valore 1 cioè diciamo è la media statistica di Trilussa però ha un qualche valore emblematico cioè c'è stata almeno una transazione per ogni abitante dei comuni capoluogo e vedete diciamo il raddoppio che c'è salendo dal 2019 al 2021 delle transazioni Pago PA qui invece vedete il tema cioè metto i servizi online ma li devo rendere accessibili con speed anche qui noi partiamo da una rilevazione che fece la Corte dei Conti nel 2019 ma la aggiorniamo sistematicamente nella misura in cui riusciamo a recepirlo ci può essere qualcosa che ci sfugge però noi andiamo nei siti e cerchiamo diciamo di raccogliere tutte le informazioni possibili e qui vedete che c'è ancora molto lavoro da fare perché sui 10 servizi online di cui noi abbiamo verificato l'accessibilità con speed la crescita c'è rispetto all'anno scorso è notevolissima passiamo dal 39 al 52 però diciamo parecchia strada c'è ancora da fare perché questo è un indice che nel suo valore assoluto deve tendere al 100% anche qui graduatoria Pisa prima seguita da Piacenza Modena poi Rimini Roma Capitale Cremona Firenze Parma Reggio Emilia Ravenna e Torino come vedete in testa in questo caso troviamo di nuovo città di media dimensione e diciamo in questo caso troviamo sostanzialmente meno città metropolitane di quante ne troviamo in altri indicatori distribuzione geografica meno spinta che in altri casi in particolare in questo caso il centro sta più o meno almeno per l'appartenenza alla fascia più elevata sullo stesso livello del settentrione rimane sempre in ritardo il meridione distribuzione dimensionale ecco questo è particolare nel senso che scontata la differenza nei 12 grandissimi capoluoghi per il resto siamo come vedete su livelli abbastanza simili tra le città medio-grandi 100.000 250.000 abitanti e le altre più piccole o quantomeno diciamo anche le piccolissime per essere comuni capoluogo naturalmente quegli sotto i 50.000 abitanti riescono ad avere una frequenza di presenza nella parte alta della gradatoria che è sostanzialmente uguale a quella delle città intermedie cosa che non avevamo trovato negli altri indicatori grazie il commento è di Ludovica Carla Ferrari Ludovica è assessora alla città smart politiche economiche turismo e promozione della città del comune di Modena ciao Ludovica benvenuta abbiamo visto Modena già nelle posizioni di vertice per quanto riguardava l'indice di servizi digitali adesso la ritroviamo anche qua benvenuta Ludovica grazie Gianni buongiorno a tutti saluto tanto i colleghi ho ascoltato con molta attenzione che dire il convento è presto detto nel senso che questa è l'innovazione quella che voi avete analizzato in questo caso è quella che noi definiamo l'innovazione profonda cioè quel lavoro costante che dura 365 giorni all'anno è un lavoraccio perché è necessario rimettere in fila fino al più minimo processo di dettaglio che avviene nell'ufficio nei back office in tutte quelle realtà residuali nelle quali è più difficile arrivare con i grandi metaprogetti di innovazione della pubblica amministrazione noi stiamo facendo da anni un lavoro diciamo di fino che a volte non emerge e che fortunatamente voi con questi indici riuscite a raccontare credo che sia un lavoro come veniva riconosciuto che le amministrazioni italiane stanno facendo con grande attenzione chi più chi meno per l'amor del cielo ma il messaggio è passato è passato il messaggio che non si può più rimanere indietro che ci vuole un innalzamento effettivo degli standard complessivi che sono poi anche quelli che ci danno le resilienze che hanno dimostrato anche negli ultimi drammatici due anni che è possibile tenere e che quando ci sono situazioni di emergenza la pubblica amministrazione non si ferma ma c'è una garanzia di mantenimento di prosecuzione dei servizi che viene comunque assicurata alle cittadine e ai cittadini questo è un indicatore rappresentativo anche di quell'ecosistema dell'innovazione più diciamo diffuso generalizzato che la pubblica amministrazione sui singoli territori e anche a Modena quindi riesce ad assicurare e che consente poi all'iniziativa privata al mondo dell'associazionismo al mondo della ricerca a chi ha come si può dire creatività e ingegno e anche voglia di darsi da fare di trovare nella pubblica amministrazione un soggetto che sostiene che accompagna che non sta sicuramente un passo avanti perché insomma sappiamo anche riconoscere qual è il ruolo in questi ambiti della pubblica amministrazione ma che sicuramente supporta la capacità di stare sulla crescita dell'innovazione di chi in quel territorio ha voglia di dar gambe alla propria inventiva c'è anche devo dire in questa nell'attenzione a questo lavoro quotidiano una sensibilità verso il mondo femminile perché le piattaforme abilitanti sono quelle che consentono di lavorare bene a distanza di prendere bene di gestire bene la propria attività per quanto riguarda i servizi per quanto riguarda il rapporto in generale con le varie forme della pubblica amministrazione quella che consente di rimanere informati quella che consente anche di cogliere tutte le opportunità positive che la transizione digitale sta via via facendo emergere grazie grazie Ludovico buon lavoro e allora passiamo passiamo scusa dalla quarta dimensione social PA la quarta dimensione l'abbiamo usata un po' come teaser di questo evento abbiamo svelato i risultati la scorsa settimana quindi in parte sono circolate li conoscete vai Daniele allora James Jacobs diceva una città senza spazi pubblici non è una città i social sono lo spazio pubblico della trasformazione digitale e quindi sono un passaggio fondamentale FPA li misura ormai da molti anni e a partire dallo scorso anno effettua due rilevazioni nel corso dell'anno sulla presenza dei diversi social ormai è abbastanza generalizzata noi testiamo la presenza di sette social Facebook YouTube Twitter LinkedIn Messenger Instagram e Telegram abbiamo 21 sui 107 comuni capoluogo che hanno una presenza completa cioè su tutti e 7 e altri 64 che ce l'hanno in almeno 5 solo in un caso non siamo riusciti a rintracciare una presenza attiva quando noi intendiamo presenza intendiamo un social che sia stato attivato e nel quale sia stata pubblicata almeno una volta una cosa i più utilizzati sono Facebook e YouTube oltre 100 presenze Twitter LinkedIn Messenger e Instagram sono intorno ai 70 80 Telegram è arrivato a 46 anche in questo caso il nostro lavoro portato avanti per anni e la costruzione di archivi dati confrontabili ci consente di illustrare l'andamento e qui vedete che qui è riferito ai primi tre social media cioè Facebook YouTube e Twitter che sono quelli che noi abbiamo misurato dal 2017 in questo caso il massimo potenziale sono le 307 per 3 quindi 321 presenze attivabili vedete che dal 2017 al 2021 la crescita è dal 69 per cento all'88 per cento e anche qui potete vedere l'effetto pandemia nel confronto tra il dato dell'autunno 2019 al dato della primavera 2020 si vede proprio lo scatto cioè la necessità che hanno avuto in quel periodo le amministrazioni di dotarsi di nuovi strumenti la graduatoria l'abbiamo già presentata qualche settimana fa Bologna si conferma veramente la best practice dal punto di vista della gestione dei social media comunali non solo di questi l'abbiamo vista in testa in tante altre gradatorie nelle prime posizioni in tante altre gradatorie ma da questo punto di vista proprio il risultato massimo precedendo Venezia Torino Firenze Napoli Roma Capitale Pordenone Cagliari Genova e Milano la domanda è come c'è entrata Pordenone perché se vedete siamo tutte città capoluoghi metropolitani la presenza di Pordenone significa che anche una città di Pordenone ha 50.000 abitanti e poco più l'abbiamo incontrata quando abbiamo fatto la presentazione con una buona organizzazione del lavoro è possibile anche per una città di piccola dimensione avere standard molto elevati nella gestione dei social media noi misuriamo non solo la presenza misuriamo il tasso di penetrazione cioè il numero di iscritti di follower rispetto alla popolazione misuriamo la produzione di contenuti misuriamo l'aggiornamento del social perché ovviamente se un social c'è ma non è aggiornato a più di un anno non può avere lo stesso valore di un social che invece viene è stato aggiornato nell'ultimo mese o nell'ultimo 15 giorni anche qui le due discriminanti purtroppo pesano pesa la discriminante territoriale insomma penso che sia abbastanza autoillustrativo il grafico ormai ne avete capito il meccanismo pesa la discriminante dimensionale ma come vedete come nel caso precedente lo scarto è tra grandissime città che ovviamente hanno risorse e strumenti che soprattutto dal punto di vista dell'aggiornamento e dell'attivazione possono aiutare e le altre che hanno invece in questo caso distribuzioni abbastanza simili grazie Daniele e allora andiamo a Bologna da Massimo Bucani Massimo Bucani è assessore ai rapporti con il Consiglio Comunale Agenda Digitale Uso Civico dei Dati devo dire che fin quando la presentazione foro un più a città era itinerante perché potremmo andare in giro per l'Italia le prime edizioni sono state accolte ospitate dal Comune di Bologna dall'attuale sindaco quando l'attuale sindaco era assessore dell'innovazione cioè l'Epole e quindi benvenuto in questo tavolo visto che in questo momento c'è stato questo cambio come interlocutore prego prego Massimo prima di tutto grazie Gianni grazie Forum PA per quello che fate per come lo fate questa insomma negli anni visto che lo fate da tanti anni si rischia di dare per scontato il vostro lavoro e scontato assolutamente non è è un grandissimo e preziosissimo lavoro detto questo Bologna ottiene questi risultati il merito è di tutte le persone che mi hanno preceduto di tutti i dirigenti di tutti gli staff di questa amministrazione sui social perché Bologna parte nel 1995 con Iperbole che è una rete civica quindi un ringraziamento va anche a Stefano Bonagal allora assessore che conoscete tutti grande filosofo che ha questa idea di rendere una rete civica biunivoca e quindi Bologna inizia a vivere di social prima della nascita dei social fondamentalmente e allora cosa succede che queste informazioni fin dall'inizio vengono date dall'interno verso l'esterno ma anche dal cittadino verso l'interno verso l'amministrazione in forma di segnalazioni consigli partecipazione e in questo senso Bologna è andata avanti quindi davvero già allora c'era Leda Guidi che ringrazio che so che è in collegamento lei c'è ancora oggi quel lavoro è stato portato avanti come si ottiene questo risultato? C'è un ufficio comunicazione che funziona molto bene che trasforma quelle che sono le notizie in una comunicazione social vogliamo dire più smart più efficace però questo è un grandissimo lavoro per nulla scontato e che richiede tantissimi anni di esperienza allo stesso tempo c'è una macchina che comunica bene quindi un grande ringraziamento a tutte le persone dirigenti dell'agenda digitale che raccolgono quotidianamente dati informazioni vengono passate all'ufficio comunicazione e appunto proseguendo in quello stile si apre questa rete in entrata e in uscita Bologna pertanto si è abituata a questa dinamica non a caso vi racconto un aneddoto di colore ma mi diceva uno dei dirigenti aprimo una pagina LinkedIn come prova per testarla la lasciamo lì poi dopo i primi test per qualche mese senza aggiornarla e avevamo già migliaia di contatti quindi corremo ai ripari e andiamo subito invece ad attivarla perché si è creata appunto questa sensibilità nel territorio si è creata negli anni si è creata grazie a un grande lavoro che era mirato proprio a questo il comune deve comunicare bene quello che fa renderlo una comunicazione semplice ma allo stesso tempo da subito non far sentire passivo il cittadino ma coinvolgerlo all'interno di una interazione e questo penso che sia la chiave di questo successo di questi numeri per quanto riguarda i social e grazie ancora grazie grazie anche a te salutici appunto il sindaco che è stato tra i promotori delle prime edizioni di questo rapporto grazie mille e saluto anche l'Eda Guidi allora se tu mi dici che è online saluto l'Eda che appunto in questi anni con la quale siamo tantissime volte confrontati sin da quei tempi che tu dicevi prima di Perbole di Mone e della Redicivica di Milano che sono stati appunto i punti di partenza di tutto ciò le Rediciviche da allora l'altra che ultima quinta dimensione quinta dimensione Open Data sugli Open Data il paese ha una delle eccellenze non solo a livello urbano ma a livello nazionale sapete che sugli Open Data c'è una fortissima e importante comunità in Italia che in effetti da diversi anni si confronta e crea valore quello che si diceva prima sulle app se il meccanismo tipico delle app è che da una parte l'ente libera i dati ad esempio sui trasporti pubblici e poi le comunità attive in questo campo aggiungono valore magari proponendo soluzioni vai Daniele allora Indice Open Data è presente anche questo da 5 anni anche questo nel corso degli anni ha subito delle evoluzioni quest'anno insieme a diciamo dei punteggi attribuiti per il numero di dataset per il numero di file interoperabili attribuiamo anche dei punteggi per come viene organizzato per come vengono resi accessibili gli Open Data ai cittadini questo indicatore diciamo di qualità della comunicazione l'abbiamo usato anche nelle app e come vedrete lo useremo anche in altri indicatori perché cerchiamo diciamo di capire non solo i servizi offerti ma anche come si facilita la loro fruizione qui la situazione è molto polarizzata vedete che anche rispetto all'anno scorso sostanzialmente le amministrazioni che rendono disponibili raggiungibili Open Data passano da 59 a 64 cioè crescono ma non è che crescano in modo sconvolgente quelle che tra questi dataset inseriscono file interoperabili passano da 57 a da 47 a 52 le modalità di accesso lo dicevo quest'anno abbiamo introdotto questa ulteriore variabile la illustro in questo caso in modo esemplificativo anche rispetto alle altre in 17 casi le amministrazioni comunali hanno un link in HP in home page con il portale Open Data che è un portale perfettamente strutturato in modo avanzato e fruibile in altri 20 casi c'è comunque l'accesso dall'home page e c'è almeno un'indicizzazione standard degli Open Data però vediamo anche che ci sono ancora 14 casi in cui l'indicizzazione è molto parziale oppure c'è solo un elenco non non attivabile diciamo e questo ovviamente diminuisce la fruibilità degli Open Data stessi risultati podio ex equo Milano Palermo e Pisa Milano che è Milano Palermo città metropolitana del Mezzogiorno Pisa città intermedia del centro un podio che più rappresentativo non si poteva seguite a brevissima distanza da Firenze Bologna Torino Lecce altra realtà del Mezzogiorno Reggio Emilia Roma Capitale e Udine i soliti criteri di analisi strutturale forte anche in questo caso lo scarto nonostante la presenza che abbiamo visto di Palermo e Lecce nella top 10 lo scarto tra il Mezzogiorno e il resto d'Italia purtroppo anche in questo caso è forte il 60% dei capoluoghi del Mezzogiorno non hanno attivato comunque reso fruibile un portale o una pagina Open Data distribuzione dimensionale qui la cosa francamente è più spiegabile perché comunque un effort richiesto vedete qui insomma la classica ormai abbiamo imparato a vederla crescita proporzionale a seconda della dimensione grazie qui devo dire che quello che dicevo all'inizio è importante vedere emergere altre città perché l'indicatore sugli Open Data e i risultati sugli Open Data è conseguenza a mio avviso del rapporto che c'è tra l'istituzione e il territorio come dicevo prima comunità molto importanti molto attive ci sono nei diversi territori italiani quindi la capacità dell'istituzione è anche quello di valorizzare l'energia che viene dal territorio la partecipazione civica nella creazione di valore pubblico ripeto spesso è proprio questo attraverso la cooptazione di soggetti territoriali l'ente crea e giunge valore non a caso appunto Palermo è in vetta la classifica dove da anni c'è una comunità molto forte con la quale noi ci siamo confrontati diverse volte anche gli eventi territoriali che fanno che diventano eventi di confronto a livello nazionale quindi non posso che fare i miei complimenti e introdurre l'assessore all'innovazione del Comune di Palermo che è Paolo Petragli a Camassa assessore dove sei? Ah sei qua ti cercavo in distanza ciao vieni grazie intanto grazie Forum PA grazie a tutti voi per il coinvolgimento e per l'importante misura che ci date rispetto anche alle falle che ancora continuiamo a vivere la riflessione prevalente ovviamente credo verta sulla questione nord-sud e il dato è drammatico ma va registrato anche in termini di sviluppo con il fronte di sviluppo che ci è posto davanti rispetto al PNRR con riferimento specifico agli open data beh io voglio dire una cosa un po' intuitiva evidentemente ma gli open data vanno così bene a Palermo perché c'è un individuo all'interno dell'ufficio innovazione che è interamente ed estremamente dedicato a questo tema e ci tengo anche a citarlo Ciro Spataro perché lo dico lo dico perché il percorso di digitalizzazione comunque è fatto da uomini e donne comunque è fatto da passione comunque è fatto da una volontà che non è necessariamente politica ma è una volontà quasi missionaria verso una direzione come dire stilata in una serie poi di programmi di finanziamento di sviluppo e di percorso amministrativo politico perché lo dico perché il vero ragionamento andrebbe fatto rispetto ed evidentemente anche rispetto alla questione nord-sud andrebbe aperto rispetto alle risorse umane e alle risorse finanziarie degli enti locali come mai Palermo si pone così avanti rispetto agli open data e così io ne sono ben consapevole indietro per esempio potrete confermarmelo anche se non è confermato alla classifica fino ad ora perché ce ne sono solo dieci rispetto ai social perché c'è stato un atteggiamento assolutamente postmoderno potremmo definirlo sugli open data e assolutamente neanche neoclassico ma classico rispetto ai social ora io con questa battuta cosa voglio dire voglio dire che evidentemente l'organizzazione dei comuni non solo dipende molto dal grado di digitalizzazione e anche il rapporto con la cittadinanza rispetto alla fruibilità dei servizi perché il servizio lo digitalizzi ma se non lo comunichi in un certo modo finisce lì allora il vero ragionamento per quanto attiene specificamente al contesto siciliano non può che passare da una fotografia della condizione economica e finanziaria degli enti locali abbiamo 390 comuni 100 dei quali sono già in dissesto 200 non chiudono i bilanci 2021 se ragioniamo in quest'ottica considerando anche che tutti ci siamo serviti di un sistema di riscossione evidentemente fallimentare possiamo ben capire che da un lato è molto complesso fare un programma anche di sviluppo e di crescita di risorse umane con riferimento alla formazione digitale diciamo a personale con quel tipo di competenza è anche vero come commentavamo poco fa con il collega Giacomo Angeloni di Bergamo che è difficile che queste professionalità vengano attratte dagli stipendi degli enti locali perché di questo si tratta ed è anche vero che abbiamo corso un rischio che secondo me dobbiamo fortemente superare che è il rischio della percezione errata della digitalizzazione che purtroppo ci è stato dato dalla drammatica DAD chiudo dicendo che la DAD perché ha dato un pessimo esempio non necessariamente perché non sia funzionata in alcuni casi ma perché la DAD ha drammaticamente fatto percepire il digitale come un ombrello che si utilizza quando piove e si chiude quando non piove più mentre il digitale che non solo è un percorso politico e di sviluppo economico serve ad avvicinare il cittadino ai servizi serve a semplificare ma evidentemente c'è ancora un passaggio culturale da dover fare rispetto alla necessarietà di questo passaggio storico chiudo qua grazie Assessore grazie sì a questo punto salutiamo anche Ciro Spataro che fanno parte appunto questi innovatori che ci seguono però devo dire una cosa Assessore sicuramente l'innovatore è quello che può fare la differenza e quindi le competenze sono fondamentali e quindi le risorse umane però se Ciro Spataro visto che ormai è diventato un caso non avessi avuto un dirigente che ben conosciamo che adesso è in pensione e che invece di trattarlo come rompiscatoli di turno non gli avesse dato quello spazio e quella fiducia probabilmente adesso la città di Palermo non sarebbe a questi livelli perché devo dire che senza nulla togliere a Ciro si è trovato in un contesto che era abilitante quando spesso invece le istituzioni sono il contrario che contesti abilitanti verissimo commento molto veloce quota 100 non l'abbiamo approvata noi e quindi il dirigente è andato in pensione legittimamente seguendo diciamo le disposizioni di una normativa certo non c'è dubbio sostituiamolo con un altrettanto aperto a proposito di aperto la prossima dimensione è proprio sull'apertura ovviamente legato al tema degli open data ma che sostituisce quello che prima era il nostro indicatore di trasparenza prego Daniele sì qui abbiamo dovuto fare un grosso lavoro perché appunto diciamo l'indicatore di trasparenza tradizionale che usavamo gli anni scorsi non era più aggiornabile con che cosa abbiamo sostituito con un indice composto dove andiamo a metterci dentro diversi indicatori ci mettiamo dentro la accessibilità le indicazioni di accessibilità formali ci mettiamo dentro le informazioni che vengono fornite sul responsabile della trasformazione digitale ci mettiamo dentro altri elementi tra cui anche una sintesi di quegli indicatori di comunicazione che abbiamo visto presenti in diversi ambiti in diversi ambiti specifici appunto uno degli indicatori è quello delle dichiarazioni di accessibilità come vedete anche se può apparire sorprendente ci sono 28 amministrazioni in cui non siamo riusciti a trovare nella home page il link alla dichiarazione di accessibilità altri casi in cui diciamo non sono complete come vedete il numero di amministrazioni che ha comunicato l'IPA il nominativo del responsabile della transizione digitale è di 87 non di 107 come dovrebbe naturalmente essere ma ripeto l'indicatore fondamentale è quello che mette insieme i diversi aspetti di comunicazione e di apertura qual è il ranking in questo caso in cima troviamo Firenze e Trento seguite da Bari e Milano a brevissima distanza di nuovo Palermo Caglia di Cremona Genova Padova e Rimini come vedete qui c'è una presenza mista di città di diverso tipo però le variabili strutturali purtroppo continuano a seguire uno dei due modelli che abbiamo già visto cioè la netto scarto a favore delle realtà settentrionali per quanto riguarda l'analisi in termini di ripartizione e diciamo ormai la possiamo considerare usuale progressione diciamo a seconda delle dimensioni demografiche mi viene in mente adesso che prima citavo la prima indagine che facemmo in un altro contesto appunto 25 anni fa mi ricordo che il titolo era la telematica non divide l'Italia perché perché era la nostra prima indagine sulle città digitali ed era prevalentemente frutto dell'analisi di quello che si diceva prima cioè di quel primo momento che era che nasceva dalle reti civiche e quindi da quello che erano movimenti spontanei dal basso e quindi la nostra prima interpretazione i sociologi sbagliano sempre per guardare avanti era che la telematica fosse un'occasione per tutti che la telematica non divideva l'Italia perché in effetti quella prima forma di attivismo civico che veniva tra le reti civiche si distribuì un po' a macchia di leopardo in tutto il paese ovviamente sbagliamo con la previsione qui siamo adesso a commentare le tabelle nord-centro-sud ahimè andando a ribadire un disegno di un paese fatto a più zone a più colori dove anche su questa dimensione differenza c'è non a caso commentiamo questo andando andando al nord con il sindaco di Trento benvenuto sindaco commento di Franco Ianeselli sindaco di Trento ciao ciao Franco e benvenuto Trento è ai vertici ormai da da tanti anni di questo nostro lavoro siete molto impegnati anche a livello di confronto voi fate quella bella iniziativa che è la settimana delle smart cities e diventa anche un momento di confronto con le altre realtà prego sindaco sì sì grazie noi crediamo veramente tanto nel confronto perché sicuramente di solito non andiamo male nelle classifiche però non è bearsi delle posizioni è lavorare come fate voi su indicatori specifici capire quali sono i punti di miglioramento per quanto riguarda l'apertura sì noi crediamo di aver descritto molto bene i 70 servizi digitali che abbiamo adesso l'obiettivo è quello di completare diciamo la descrizione in occasione della migrazione dell'intero sito c'è la descrizione dei servizi che produce apertura poi c'è anche la necessità di consentire ai cittadini di usufruire di questi servizi ecco noi siamo sicuramente molto orgogliosi del fatto che nei nostri uffici sono state rilasciate 7000 identità digitali questo è un lavoro diciamo dei nostri uffici periferici degli uffici centrali anche dell'accompagnamento per le persone in difficoltà perché non c'è semplicemente la procedura di riconoscimento finale ma proprio abbiamo realizzato un servizio in presenza nel mese in cui questo era possibile per aiutare le persone in difficoltà e quindi abbiamo adesso 20.000 pratiche digitali solamente contando quelle ricevute attraverso la stanza del cittadino allo sportello digitale apertura anche attraverso la app noi abbiamo questa app che si chiama la mia Trento qual è l'obiettivo superare questo lo rileggio di app che abbiamo avuto negli anni ovviamente noi contiamo qui su queste oltre che su una struttura diciamo tecnica molto forte interna al comune sul rapporto con le fondazioni di ricerca con FBK allora la mia Trento è un'app modulare vari moduli il cittadino sceglie quali moduli attivare noi adesso andremo nella direzione di implementazione ulteriore con nuovi moduli e il punto è poi di collegare la app della città ai servizi transazionali quindi in maniera tale che si possano anche qui si possa procedere attraverso l'app anche a pagamenti e quanto diciamo su questo filone per il 2022 siamo molto convinti ecco di questo progetto che abbiamo di creazione di una smart city control room noi siamo una città coinvolta fortemente dal piano nazionale di ripresa resilienza per cui abbiamo assolutamente bisogno di dati di governo dei dati in una logica di apertura di trasparenza e poi rispetto a quanto si diceva apertura si orgogliosi dell'apertura però per noi adesso la sfida è reingegnerizzare i processi per cui apertura sì ma anche efficacia ed efficienza questa è la direzione nella quale andiamo e insomma siamo indirizzati in una prospettiva di ulteriore miglioramento grande grazie sindaco anche a te buon lavoro e torniamo torniamo in studio beh l'altra la prossima dimensione è il wifi una delle dimensioni classiche in questa logica di Amarcord che comunque abbiamo postato oggi alla giornata mi ricordo che la prima città fu Venezia quando tra i primi no ti ricordi Paolo che vedo qua fu tra le prime a impegnarsi ad aprire mi ricordo facemmo un incontro a Venezia era Michele Vianello era vice sindaco con le altre città un tavolo come questo che da quale è emersa la famosa domanda che fanno tra di loro gli assessori giustamente come cioè come è fatto in effetti a rendere libero il wifi sul territorio mi ricordo facciamo un bellissimo incontro a Venezia prego Daniele grazie questo anche questo è un indicatore ormai consolidato ed è un indicatore anche questo basato su una rilevazione diretta effettuata da FPA tra tutte è la più complicata perché la più complicata perché alcuni di voi comunicano indicando il numero di hotspot e dicendo che sono hotspot altri comunicano il numero dei punti di accesso dicendo che sono punti di accesso altri non si capisce bene che cosa ci dicono e alcuni non comunicano proprio per niente noi comunque cerchiamo diciamo sfruttando la progressiva correzione che ci dà il fatto di fare una rilevazione ogni anno di raffinare progressivamente i dati e anche in questo caso insieme al dato quantitativo noi misuriamo sia l'incidenza rispetto alla popolazione che la densità rispetto alla superficie dei punti di accesso inseriamo anche un elemento di valutazione anche qui della chiarezza con la quale io che cittadino o turista che mi presento in quella città vengo a partire dal sito comunale instradato verso la rete wifi e le sue modalità di accesso anche qui siamo in grado di ricostruire una serie storica importante dal 2018 erano 89 i comuni dove i comuni capoluogo dove nel 2018 abbiamo rilevato in qualche modo in qualche forma l'esistenza di una rete wifi riconducibile direttamente o indirettamente alle amministrazioni comunali oggi siamo arrivati a 104 vedete qui questo questa classificazione questo tentativo di classificazione della comunicazione ora una delle cose che facciamo in apra una brevissima parentesi una delle cose che facciamo in iCity Club è ragionare insieme ai comuni su come noi misuriamo questi fenomeni in modo da ricevere stimoli e suggerimenti per perfezionare il nostro è un è un indice che si evolve si evolve nel confronto con gli utenti qui che cosa abbiamo misurato un conto è se io diciamo metto a disposizione dei cittadini una mappa navigabile con i punti di accesso che mi consente di muovermi e di raggiungerlo un conto se la mappa invece è fissa un conto è se mi limito a elencare i punti diciamo per iscritto un conto è se do solo la notizia un conto e vedete il caso è abbastanza strano cioè ci sono amministrazioni che hanno rete attive ma sulle quali sul sito non si riesce a reperire le relative indicazioni top 10 comuni per il wifi qui sono anni che va avanti la sfida Firenze e Bergamo Firenze prima Bergamo Cagliari Venezia citata Trento di nuovo presente Milano Verona Bologna Brescia e Modena tranne Cagliari e vedete molto orientata geograficamente e diciamo qui andiamo anche oltre la media della tendenza alla discriminazione alla discriminante geografica qui è veramente davvero tanto tanto pronunciata solo due città del meridione tra le prime 35 della graduatoria nazionale più aperta anche in questo caso invece è la distribuzione dimensionale al solito al di là delle grandi città naturalmente per esempio anche perché diciamo qui conta molto l'indice di incidenza relativa abbiamo visto cioè sia rispetto alla popolazione che rispetto alla... ma è giusto che sia così perché è inutile che metto mille punti di accesso se la dimensione della città è di altro è più piccola e noi misuriamo quello cioè lo misuriamo tenendo conto delle dimensioni demografiche di popolazione grazie grazie Daniele e il commento lo facciamo con con Bergamo allora Giacomo Giacomo Angeloni assessore stavo cercando le qualifiche sono sempre tantissime assessore all'innovazione e semplificazione dei servizi demografici del Comune di Bergamo quando citavo tu quei dati tu avevi giusto 10-15 anni quando citavo quella guarda guarda che ho fatto i calcoli sono invecchiato sono invecchiato nel frattempo no grazie sono molto contento grazie dell'invito a parte che non abbiamo nessun problema con Firenze anzi visto che loro stanno sopra di noi andremo a Firenze in trasferta a vedere come fanno quindi no volevo dirvi due cose la prima è che mi piace ricordare un passaggio del discorso di insediamento del presidente Mattarella che quando ha giurato alle camere ha detto che internet doveva diventare un diritto in Italia e dopo sette anni secondo me un po' questo diritto l'abbiamo acquisito forse abbiamo bisogno di un riferimento in Costituzione però il fatto che internet possa essere considerato come un diritto come l'acqua la luce secondo me è un messaggio che dobbiamo restituire al presidente in questa fase finale del suo mandato e anche lui ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo rispetto all'importanza dell'innovazione tecnologica rispetto all'Wi-Fi noi siamo molto contenti perché è un progetto che per noi è un fioro all'occhiello dell'esperienza di innovazione esterna ai servizi del comune siamo felici anche perché continuano a chiedercelo ovunque quindi in progressione adesso non voglio dare i numeri che poi non riuscite a decontare però in progressione siamo passati da 60 punti a 180 adesso siamo a 220 insomma sta crescendo e continuerà a crescere in prospettiva il Wi-Fi ha tre o quattro innovazioni future che in Italia sono ancora di là da venire ma noi lo faremo in modo sperimentale anche senza semplificando il più possibile la prima innovazione è questa rogna della password che per molti sistemi è ancora obbligatoria se guardate Wi-Fi Barcellona e è quello a cui dobbiamo guardare la password non esiste da almeno sei anni se trovi il segnale ti colleghi e vai mica hanno avuto Pisano come ministro allora eh infatti la seconda cosa che vogliamo fare è farlo diventare un po' un progetto che unisce le due città capitale della cultura del 2023 sapete che insieme a Brescia noi saremo Bergamo e Brescia capitale a singolare della cultura nel 2023 e siccome abbiamo lo stesso sistema di Wi-Fi lo trasformeremo e diventerà Brescia-Bergamo o Bergamo-Brescia adesso no Wi-Fi per il 2023 con l'obiettivo di davvero rendere connesse fra di loro le due città addirittura stiamo inventando una pista ciclabile che collegherà le due città che sarà illuminata dal Brescia-Bergamo-Wi-Fi questa è per lanciare sull'anno prossimo insomma grazie all'indicatore più innovativo più recente che è quello dell'internet delle cose quindi ovviamente legato a una visione di città soprattutto del futuro quella che viene chiamata la sense of the city la città di per sé può raccogliere informazioni e ridarle in tempo reale laddove appunto viene pensato e strutturato in una logica proprio di ascolto di raccolta dei dati vai Daniele sì allora diciamo questo è uno degli otto indicatori probabilmente meriterebbe più spazio più speso e lo avrà penso in in prospettiva perché questo è il nuovo fronte quello delle della trasformazione digitali di tutti i sistemi di rete che governano le città noi lo misuriamo dal 2019 anche in questo caso partiamo dalla rilevazione che effettua l'ISTAT sulla presenza di tutta una serie di dispositivi o servizi di tipo digitale in vari in vari ambiti e diciamo però andiamo a aggiornarlo e a verificarlo con rilevazioni sul campo anche in questo caso molto complesse perché spesso si va sui siti dell'amministrazione spesso sui siti dell'azienda e quant'altro che cosa illuminazione pubblica che è il grande driver della digitalizzazione dei servizi tecnologici reti semaforiche sistemi di raccolta dei rifiuti e da quest'anno abbiamo introdotto un indicatore che raccoglie una serie di servizi di infomobilità e un indicatore che raccoglie alcune attività digitalizzate nella gestione del verde per esempio rifiuti come fa l'Istat contenitori stradali due sono le variabili contenitori stradali dotati di sistemi di identificazione o sacchi di raccolta dotati di codice microchip e qui vedete l'andamento delle nostre rilevazioni nel corso degli ultimi due anni che abbiano diciamo entrambe che utilizzino anche sperimentalmente entrambe queste tipologie passiamo da 14 a 25 comuni che ne utilizzino almeno uno da 26 a 36 l'illuminazione pubblica che diciamo ripeto è lo snodo probabilmente cruciale di questi di questi processi cosa contiamo qui contiamo le amministrazioni che hanno sperimentato i punti luce smart cioè che associano lo stesso punto luce sia qualche criterio di regolazione automatica sia per per la luminosità piuttosto che per la presenza con una l'esistenza di uno strumento di rilevazione di un sensore in quel in quel in quel palo anche qui diciamo anche a titolo sperimentale e qui vedete come ricostruiamo la serie storica addirittura dal 2015 ci sono comunque un terzo dei comuni capoluogo italiani che stanno in una forma più o meno diffusa oggi sperimentando questa innovazione la gradatoria IoT e tecnologie di rete in testa Bolzano e Firenze seguite vicinissime da Bolzano Brescia Cuneo Mantova e Parma Pescara e poi Milano Prato Rimini Trento Treviso e Verona inutile che commento il grafico territoriale se non per il fatto che qui diciamo siamo su un tema strutturale quindi profondo quindi non che gli altri non lo fossero però diciamo qua rientriamo proprio anche nell'ARD ecco e lo scarto pesa e lo scarto pesa anche per la distribuzione dimensionale però diciamo qui è più ripeto qui è più comprensibile cioè è più comprensibile che una città metropolitana comunque il modo di sperimentare quell'innovazione lo trovi mentre il comune capoluogo con meno di 50.000 abitanti però ce n'è uno che lo ha fatto e che vediamo è riuscito ecco questo mi interessa dire a conclusione le eccezioni sono importanti in questo in questo contesto le eccezioni sono importanti perché dimostrano che quelle variabili strutturali sono sono incidenti ma non sono determinanti condizionano ma non obbligano è possibile l'abbiamo visto nel caso di di Pordenone sui social media se andate a pescare dentro le singole graduatorie vedrete tante eccezioni città dal sud che fanno belle performance piccoli capoluoghi che fanno belle performance quindi il cambiamento è possibile come diceva un signore si può fare non lo faccio l'espressione allora ne parliamo con Firenze Firenze è interessante perché oltre ad essere al vertice di questa classifica è probabilmente la città che tra le prime ha valorizzato il concetto del dato come risorsa la prima o diciamo tra le primissime così non creiamo a parlare di data room cioè quindi di una capacità di coordinare i dati e le informazioni che venivano dal territorio io spero che io cito sempre ai convegni il fatto che Firenze è stata tra le prime città a chiedere a coloro che facciano servizi privati come i monopattini e le biciclette per contratto i dati e lo cito sempre spero che adesso tu non mi contraddica perché perché è evidente che chi fa servizi di sharing di mobile sharing e quindi di soluzioni di mobilità condivisa la ricchezza non ce l'ha nei centesimi a chilometro non ce l'ha nei dati che raccoglie e mi ricordo che Firenze fu tra le prime città a mettere nel contratto di servizio va bene potete portare i monopatti nel nostro territorio però i dati che raccogliete in maniera aggregata sono anche nostri perché è il concetto di data driven decision ne parliamo aspetta che arrivo sempre per che ho sempre pure delle qualifiche ne parliamo con Sicilia che è assessore all'innovazione tecnologica urbanistica turismo del Comune di Firenze prego Sicilia e benvenuta salve buongiorno a tutti grazie a voi per questo invito Gianni ti confermo quello che hai detto sul tema dei dati e sul fatto che come amministrazione comunale siamo affamati di dati perché riteniamo che i dati siano delle infrastrutture della città al pari delle nuove tramvie che pure stiamo realizzando sulla nostra città e sono infrastrutture pesanti ovviamente anche qui per una mobilità sostenibile per una città più sostenibile ma allo stesso modo ecco avere questi dati sui quali la città si costruisce diventa fondamentale per appunto una città che poi sui dati riesce a erogare in modo più efficiente i suoi servizi pubblici su questo fronte siamo impegnati non solo come amministrazione comunale ma anche con le utilities quindi con le società partecipate che erogano servizi pubblici ma devo dire anche con tutti gli stakeholder che fanno parte della rete Firenze Digitale in quanto proprio in prospettiva ecco della Smart City Control Room stiamo cercando di lavorare in modo condiviso per essere un'interfaccia unica rispetto al cittadino rispetto alle imprese nell'erogazione dei servizi pubblici il prossimo anno più o meno di questo periodo quindi vi invitiamo già all'inaugurazione apriremo la Smart City Control Room dove ecco uniamo all'elemento del digitale e l'elemento dei dati l'elemento del capitale umano e quindi con i dipendenti delle società partecipate e ovviamente anche con i dipendenti dell'amministrazione pubblica ci ritroveremo in modo tale da dar vita e dar corpo a questo progetto che vuole dare appunto una visione integrata della città in modo tale ecco da mettere a fattor comune tutti quei dati che dai vari servizi e dalle varie direzioni riusciamo ad avere partiremo già con la Smart Mobility perché già quella diciamo è in atto il cervellone del traffico e della mobilità perché abbiamo sul territorio tutta una serie di una rete di sensori diffusi per misurare il flusso dei veicoli in circolazione così è come abbiamo dei sistemi di controllo dal remoto dei semafori o diciamo riusciamo a comunicare in tempo reale anche tramite le app incidenti e criticità nella circolazione allo stesso tempo sempre sulla nostra città sul fronte dell'illuminazione pubblica anche qui abbiamo un controllo quindi tutta una serie di sensori come vedevamo prima ecco che avete rilevato anche dalle vostre statistiche così come ecco riusciremo ad integrare banche dati e sistemi software delle varie direzioni partecipate che vanno dai sistemi informativi della manutenzione anche appunto dei soggetti che hanno il global service e lo gestiscono ai sistemi informativi del verde pubblico che invece abbiamo realizzato in casa grazie a fondi POMmetro che sono stati fondamentali ecco per crescere come città da un punto di vista digitale che pure ci stanno accompagnando in questo percorso della realizzazione della smart city control room che porteremo avanti anche sul fronte dei rifiuti pure qui abbiamo fatto un grandissimo investimento che avete rilevato proprio per dotare di sensoristica tutti diciamo i bidoncini del sistema porta a porta che abbiamo implementato e passiamo ora al cassonetto intelligente con quella app che ci permetterà pure di tracciare i rifiuti tutto questo in un'ottica e concludo poi di inclusione e di partecipazione del cittadino perché tutto quello che ho raccontato servirà non soltanto ovviamente alla pubblica amministrazione per organizzarsi meglio e rendere dei servizi più efficienti ma anche per una trasparenza ecco nei servizi resi e una partecipazione quindi con i cittadini che pure potranno darci i loro dati partecipare grazie a queste piattaforme anche a dei progetti come quello che abbiamo messo in campo due anni fa di forestazione urbana partecipata grazie a Pago.pia e alla possibilità di donare un albero alla nostra città online grazie grazie a te grazie a te Cecilia magari alla fine noi lo scorso anno avevamo invitato una bravissima violinista che tra una dimensione e l'altra suona una sorta di stacchetto e adesso alla fine ci accompagnava verso le considerazioni finali non ti posso fare lo stacchetto Daniele quindi facciamo non lo faccio non lo faccio è inutile e quindi andiamo verso le conclusioni il disclaimer di ogni anno è evidente che finisce la classifica ma è anche evidente per noi importante sottolineare che lo strumento è un strumento di lavoro di confronto devo dire che da quando lavoriamo insieme e qualcuno di voi lo può confermare questa occasione è veramente un'occasione di scambio di esperienze tra città non è una distinzione tra primi e ultimi o tra primo e terzo della classe ma un'occasione per confrontarsi molti di voi ce lo ribadiscono lavorando insieme alla classifica agli indicatori alla metodologia abbiamo creato appunto un tavo di confronto che secondo me crea valore in maniera reciproca per tutti quanti quindi in questo modo dobbiamo vedere l'indice finale è evidente che appunto da quelle otto dimensioni nesce una che è quella finale Daniele grazie Gianni dunque 130 variabili 35 indicatori 8 indici settoriali un indice finale ripeto le due avvertenze primo è un indice relativo quindi una variazione non solo nella posizione ma anche nel punteggio un'eventuale variazione negativa non significa che uno è arretrato in termini assoluti ma diciamo magari qualcun altro è avanzato più velocemente e questo porta il risultato secondo è un indice ipersensibile quindi anche piccolissime talvolta piccolissime variazioni piccolissime differenze possono determinare degli spostamenti di posizioni noi invitiamo tutti a guardare alle fasce di appartenenza più che alla posizione nessuno lo fa però noi continuiamo a ripetere questa avvertenza risultati generali creiamo un po' di saspenza allora il ragionamento delle fasce la conclusione a cui arriviamo quest'anno è che ci sono circa una ventina vedremo poi esattamente 22 di città che sono ai vertici della graduatoria complessiva ma che non solo sono ai vertici della graduatoria complessiva ma che quasi monopolizzano i vertici della graduatoria settoriali e che soddisfano dei requisiti di termini in termini assoluti di qualità digitale c'è poi un corpo centrale di una sessantina approssimativamente di città a un livello intermedio queste sessantina di città possono o alternare prestazioni alte in alcuni ambiti e basse in altri ambiti o essere generalmente intermedie ma sono comunque città che hanno avviato e stanno proseguendo questo processo infine alla base della graduatoria ci sono una ventina di città che appaiono fortemente in ritardo non solo in termini relativi ma in parte anche in termini assoluti comunque certamente in termini relativi per confermare e qui diciamo sto usando solo dati che ho già presentato quanto dicevo cioè che il gruppo delle città di testa si ripropone sistematicamente vedete che diciamo quelle evidenziate sono le città che appartengono anche ai vertici della graduatoria generale stanno anche quasi sempre occupano quasi tutte le posizioni di vertice nelle graduatorie singole visione trasversale delle due questioni che abbiamo ripetuto fino alla noia in ogni indicatore questo ci consente anche di qualificarle le due questioni la questione meridionale digitale qui vedete confrontato il punteggio medio dei capoluoghi del mezzogiorno col punteggio Italia fatto 100 quindi si vede proprio lo scarto e vedete che lo scarto che è mediamente del 25% raggiunge in alcuni ambiti open data e wifi pubblico quasi il 40% questo fa riflettere se pensiamo a cosa significano quei due ambiti specifici stesso ragionamento per i piccoli comuni l'altra criticità che abbiamo riscontrato anche qui lo scarto medio è del 25% ci sono alcuni ambiti social pia e wifi pubblico dove qui invece arrivano quasi a livello standard della media nazionale altri gli open data il dato è bassissimo semplicemente perché non ci sono non li hanno attivati mi sa che diciamo che che sono arrivato c'è la copertina c'è la copertina e quindi devo andare avanti se ci vuoi dire allora in testa alla graduatoria troviamo Firenze Molano e Bologna io volevo mettere una foto di Nadal Federer e Djokovic per due motivi primo perché per tanti anni Firenze Milano e Bologna si alternano nelle tre posizioni di testa secondo perché sono tre modelli diversi che però arrivano a risultati molto molto simili un po' come per gli appassionati di tennis Federer Nadal e Djokovic però come nel caso di Federer Nadal e Djokovic diciamo che c'è qualcun altro che sta emergendo e si sta avvicinando insomma cioè abbiamo gli Zverev i Medvev i Berrettini e e e i Sinner questa è la graduatoria dei primi 22 che hanno quei dei primi 22 comuni capoluogo completa che hanno quelle caratteristiche che noi abbiamo indicato cioè non solo sono nella cima della graduatoria complessiva ma hanno anche dei requisiti assoluti dopo Firenze Milano e Bologna troviamo a pari merito quest'anno in quarta posizione Roma capitale Modena e Bergamo a brevissima distanza Torino qui vedete gli scarti sono veramente minimi poi Trento poi un altro gruppo di città con punteggi molto simili Cagliari nona Parma decima Reggio Emilia undicesima Palermo dodicesima e poi diciamo tre che per puro caso sono anche Repubblica marinale come Venezia Pisa e Genova quindi Rimini Brescia Cremona Prato Bari Bolzano Verona evidencio i casi di Cremona e Pisa perché sono due città di dimensioni non grandi che riescono ad essere presenti in questa graduatoria top abbiamo detto che non solo per requisiti di posizione ma anche per requisiti oggettivi cioè noi siamo andati a misurare indicatore per indicatore se soddisfacevano dei criteri di qualità almeno a un livello più che soddisfacente diciamo espresso in voti tradizionali almeno sette in quasi tutti gli indicatori queste 22 città li soddisfano le definiamo città digitali cioè città che utilizzano leggo perché è la nostra definizione città che utilizzano in modo più diffuso organico e continuativo le tecnologie digitali più aggiornate nelle attività amministrative nell'erogazione dei servizi nella raccolta ed elaborazione dei dati nell'informazione nella comunicazione per la partecipazione e per portare avanti i processi di innovazione istituzionale culturale e organizzativa al fine di migliorare la qualità della vita e dei servizi funzionali cosa nasce da questa analisi che abbiamo compiuto la nostra ipotesi che poniamo alla discussione è la necessità di una strategia articolata a tre livelli abbiamo un gruppo di città che sono queste 22 città digitali che che hanno che non è che non hanno bisogno hanno bisogno perché devono competere nell'arena europea e quindi hanno bisogno di un supporto da quel da quel punto di vista ma sono diciamo in gran parte in grado di fare da sé o con qualche interscambio tra loro abbiamo un gruppo di città il gruppone delle città intermedie che chiamiamo città in evoluzione che non ha solo bisogno di un supporto quantitativo ma ha anche bisogno di confronto e di trasferimento di esperienze però ricevendole probabilmente in grado di muoversi abbiamo infine un gruppo di città più decisamente in ritardo dove forse questo non è sufficiente ed è necessaria una azione di supporto più completa perché le risorse che hanno consentito ad altre città di ottenere le performance qui mancano qua c'è la gradatoria complessiva non vi do il tempo di andare a vedere una per una lo fate dopo con più calma al volo al volo si è un focus sulle città metropolitane abbiamo con noi Giorgio Martini che è l'autorità di gestione per un metro l'agenzia della questione territoriale dove stai Giorgio facciamo un focus sulle città metropolitane evidentemente perché abbiamo parlato dell'universo complessivo abbiamo parlato dell'universo complessivo però è importante anche un ragionamento su queste città non parlo delle aree ma delle città metropolitane vai Daniele sì diciamo capoluoghi metropolitani allora questo è il posizionamento in classifica delle città metropolitane i loro punteggi e il posizionamento nella classifica generale vedete che nove fanno parte del primo gruppo Napoli abbastanza vicino è 126esima Catania Reggio Calabria e Messina sono invece più distanti appartengono al gruppo alle città intermedie anche se in particolare Messina quest'anno ha fatto un passo avanti significativo in termini di posizione gradatoria cioè era messa decisamente più indietro negli anni precedenti Giorgio sì grazie Gianni buongiorno colleghi sì noi diciamo come sai siamo molto interessati a misurare in qualche modo a monitorare l'andamento delle nostre città diciamo che fanno parte del programma da un punto di vista dell'avanzamento in tema della fornitura di servizi digitali come sapete il programma finanzia queste 14 città metropolitane in particolar modo i comuni ma anche un impatto indiretto su alcuni comuni specialmente nel tema del digitale della cintura metropolitana quindi ha un effetto in qualche modo anche di contaminazione positiva noi siamo diciamo il capoluogo anche noi come dire monitoriamo un po' l'avanzamento e ci troviamo diciamo molto con i dati che voi avete estrapolato dall'indagine più ampia a livello dei vari comuni e segnalo due situazioni in particolare innanzitutto le città forse quelle diciamo più più avanti quelle più evolute come le avete chiamate voi che sono le città che stanno anche sperimentando lo vediamo nel nostro programma che ricordo tocca degli ambiti un po' diversi da quelli vostri per esempio noi non finanziamo per dire il wifi non finanziamo alcune cose abbiamo degli ambiti sette ambiti molto specifici e naturalmente lavoriamo molto anche su alcuni ambiti chiamiamoli trasversali o multi ambito e queste città devo dire stanno sperimentando alcune cose innovative molto evolute che secondo noi sono molto importanti devo dire però che anche le città che sono un po' più indietro apparentemente stanno avanzando molto il famoso gap che voi avete evidenziato tra diciamo l'area del centro nord e l'area del meridionale ecco se io vado a misurarla da un punto di vista dell'incremento percentuale dei servizi come ricordava anche adesso il caso per esempio di Messina ci sono delle percentuali molto alte abbiamo delle città che da quando noi siamo partiti ricordo nel 2014 2015 hanno anche dati come una percentuale di incremento che tocca anche 150 170 quindi vuol dire chiaramente il punto di partenza era molto più arretrato ma vuol dire che c'è un segnale di risposta positiva vorrei dire noi abbiamo fatto anche una diciamo valutazione sui vari ambiti e anche qui noi misuriamo che ci sono sicuramente delle performance delle città che riguardano alcuni ambiti particolari mentre su altri ancora c'è un certo ritardo ricordo che il programma ha messo a disposizione delle città molte risorse c'è una quasi il 50 al 60 per cento delle risorse sul digitale sono state utilizzate già molti progetti sono completati quindi si possono misurare anche gli effetti oggettivi sulla cittadinanza e sulla qualità dei servizi ma volevo segnalare appunto che il lavoro è ancora molto in progress il programma ha ricevuto importanti risorsi React EU quindi sul campo digitale le città hanno scelto di dedicare un altro centinaio di milioni quindi su nuovi progetti che sono in corso di sviluppo e stiamo ragionando molto già sulla nuova programmazione 21-27 che il programma riceverà risorse molto più importanti di quelle che ho avuto adesso e anche qui una grossa parte sarà dedicata al tema del digitale in particolare su temi come la cultura e il turismo che sono un po' nuovi nella nuova programmazione e che potranno sicuramente essere oggetto di sviluppo ultima cosa volevo dire che stiamo sperimentando con due città in particolare tra l'altro del sud perché abbiamo utilizzato il contenitore del programma complementare due progetti chiamiamoli un po' pilota uno si chiama lo stiamo realizzando col CNR e con la città di Catania su una grossa piattaforma chiamata gemello digitale che in qualche modo è un'evoluzione delle control room che già molte città hanno applicato e attrezzato utilizzando le risorse del POMMETRO e l'altra è quella della creazione di una vetrina un ecosistema digitale dove tutte le città possono in qualche modo esporre i propri prodotti e diventare quindi una vetrina che oggi è partita a livello di città diciamo del sud perché ricordo appunto che le risorse le abbiamo ritrovate sul programma complementare ma che è nostra intenzione questo come il progetto del CNR e farli diventare due punti di partenza per tutte le città del programma per la nuova programmazione ultima osservazione che volevo fare il prossimo programma si aprirà anche a alcune città medie del sud in particolare sul tema dell'inclusione sociale però anche qui ricordo come il digitale è uno strumento fortemente come dire abilitativo anche per lo sviluppo di questo tipo di politiche e quindi credo che anche su queste città riusciremo a dare un contributo positivo grazie la ricerca in un anno secondo me lo dicono nell'orecchio la ricerca ovviamente è stata possibile appunto grazie al lavoro di mesi di un gruppo di lavoro coordinato da Daniele Fichera ma è stata possibile grazie anche a quello che da qualche anno è il nostro sponsor ma direi il nostro partner perché Nelix non solo è un soggetto privato attore di queste trasformazioni ma loro stessi da tempo stanno ragionando anche proprio su come misurare le città e in particolare come misurare quello che voi chiamate l'index di di circolarità e quindi andare a vedere appunto come le città si pongono rispetto alle diverse possibilità di circolità urbana quindi digitalizzazione ambiente energia mobilità rifiuti eccetera partner appunto inizio anche in termini di ragionamento in termini metodologici Armando Grazie mille allora intanto di nuovo complimenti perché il lavoro che fate ogni anno è eccezionale voglio spendere due parole su questo perché se ne è parlato anche un po' prima dell'importanza della misurazione della necessità di dotare le città la pubblica amministrazione in generale ma anche i privati di sistemi decisionali basati sui dati io credo che alla fine il grande sforzo che si fa ancora oggi è proprio quello di reperire i dati interpretarli analizzarli armonizzarli perché sono difformi quindi veramente è uno sforzo che facciamo anche noi sia per i nostri dati interni che per quelli dei nostri comuni clienti alla fine mi rendo conto che lo sforzo dietro è importante per cui riuscire ad arrivare a questo risultato veramente vi faccio i complimenti ci sono tante cose che poi che si registrano che sono molto interessanti una è la capacità di risposta che la nostra pubblica amministrazione ha avuto negli ultimi due anni rispetto al covid cioè proprio di accelerare rapidamente sul digitale l'altro è quanto ancora spazio ci rimane per intervenire in ambito per esempio di IoT piuttosto che di altri settori che ci consente di essere non solo in grado di rispondere ma di poter prevenire certe cose quindi di avere dei modelli predittivi che ci consentano di intervenire prima che accada qualcosa di drammatico o di più difficile da affrontare su questo quindi visto che si diceva prima che non è una classifica ma poi alla fine è tante voi guardate le classifiche noi possiamo aiutarvi a guadagnare posizioni in classifica quindi in casa su più o meno tutte quelle dimensioni loro non noi noi come le leaks in questo senso citavo giustamente Gianni il Circular City Index che è un indice che noi abbiamo lanciato che chiaramente non è un'analisi così profonda come lo studio dei City Rank ma è un indice che viene calcolato sulla base di Open Data viene calcolato per tutti i comuni italiani quindi non solo per i capoluoghi ed è meravigliosamente gratuito per cui può essere navigabile sul nostro sito che è Nellix.com per la mia registrazione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e restituisce sostanzialmente un'analisi una pre-analisi di quattro dimensioni che sono ambiente, energia mobilità gestione dei rifiuti e digitalizzazione ciascuna delle quali si apre in ulteriori KPI che possono essere misurati per cui si dà un'indicazione all'amministrazione di come ci si posiziona su questi aspetti e quindi poi eventualmente pianificare delle azioni per migliorare su quegli aspetti oppure semplicemente confrontarsi e magari fare un'analisi più approfondita rispetto a quello che un indice basato su open data può fare quindi invito tutti a registrarvi ad andarlo a guardare poi presto lanceremo altre cose che vanno in quella direzione monetariamente a metà dicembre quindi ci sarà qualche ancora novità in questo aspetto ovviamente siamo super felici di continuare a collaborare con FPA perché veramente siamo convinti che la qualità del dato sia importante quanto il sistema che ci montiamo sopra cioè qualunque sistema che creiamo se poggia su dati inconsistenti o peggio assenti non ha nessun tipo di significato e dietro la consistenza del dato la qualità del dato e la presenza del dato come si diceva come diceva prima l'assessore Petraria Camassa del comune di Palermo dietro ci sono delle persone che ci devono essere messe in condizione di lavorarci devono essere usate di strumenti per farlo in questo senso le persone possono anche venire dal mondo privato come insomma da cui veniamo noi che possiamo sicuramente darvi supporto in questo senso perché di nuovo complimenti a tutte le città complimenti a FPA per il lavoro fatto grazie a tutti grazie Armando appunto devo dire che per noi è un partner importante proprio perché come vedete è con il quale ci possiamo confrontare nel merito mi confermano che fra qualche minuto come era previsto si collegherà al Ministro Giovanini però io voglio prendere appunto approfittare di questi pochi secondi che abbiamo per spiegare come andiamo avanti poi nella mattinata ci sono città che abbiamo citato e che sono presenti tra le diverse c'è Cagliari ad esempio che per tanti anni anche quest'anno è stata la rappresentante del sud in questa classifica c'è la città più in alto rispetto a quella divisione che purtroppo abbiamo visto sono diversi territori e città presenti vorrei tornare sull'argomento dopo appunto la chiusura di questa parte in streaming come metteremo un buffellà senza andare tutti lì magari ci prendiamo un piattino un po' più forte ma poi ce lo portiamo qui al tavolo la nostra liturgia è che chi vuole parlare alza il cavallerino e si prenota se non alzate il cavallerino vi interrogo io tanto vi coinvolgo io lo stesso quindi fate più bella figura alzate il cavallerino perché tanto vi porto dentro ok la logica qual è come vi dicevo avete visto ritmi serrati però appunto adesso invece vorremmo soffermarci su una serie di dimensioni importanti mangiare qualcosa insieme un'altra ore e poi avete facoltà di tornare prima di e questa quindi la seconda fase chiudiamo dopo l'intervento del ministro chiudiamo lo streaming prendiamo a turno qualcosettina lì senza ammocchiarvi e continuiamo il ragionamento però prima che tutto ciò avvenga Antonella è aperto non ti dico di chiudere perché il processo è ancora ampio ma una prima considerazione prego una considerazione che indubbiamente i lavori di questa mattinata sono stati utili interessantissimi i risultati del vostro lavoro e molto interessante anche la risposta dei comuni presenti nell'accogliere anche gli elementi in qualche modo critici che li vedono e la spiegazione del perché magari non sono stati fatti alcuni passi in avanti oppure le scelte che hanno motivato a crescere in questa classifica io credo che sia molto importante in questo momento il lavoro che ci apprestiamo a fare perché come vi dicevo all'inizio per la prima volta veramente in tantissimi anni che seguo questo settore ci troviamo ad avere un ammontare di risorse complessive abbastanza significative e una disponibilità soprattutto questa da parte dell'amministrazione centrale nel lavorare insieme e nello strutturare insieme quelle che saranno le piattaforme nazionali definire insieme i progetti strategici capire le criticità io si è aperta questa stagione di confronto e molti di voi che sono sotto del tavolo voi i vostri dirigenti stanno lavorando con noi in particolar modo su una delle piattaforme che io ritengo più importanti quella che ci garantirà effettivamente l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazione e quindi l'evoluzione dei servizi e qui va a toccare forse proprio uno di quei dati che nella vostra analisi è quello un po' più deficitario dell'aspetto degli open data e lì bisogna spingere spingere parecchio e noi abbiamo delle norme che prevedono degli obblighi e quindi da una parte abbiamo obblighi stringenti in termini di tempistica abbiamo risorse e capire come arrivarci non è semplicissimo non lo sarà per tutti anche perché qui noi abbiamo voi parlate di uno spaccato comunque di realtà importanti significative che se voi le classificate piccole in realtà piccole noi abbiamo un paese che è fatta di un'enormità di comuni sotto i 5.000 abitanti che sono piccoli davvero che fanno parte dello stesso gioco e per far funzionare il meccanismo ci devono stare dentro anche loro e quindi io devo dire che uno degli aspetti molto importanti che sono usciti da Parma dal racconto che ha fatto Martini del discorso che queste realtà che oggi qui noi abbiamo ascoltato sono anche un punto di riferimento per i territori e per le amministrazioni più piccole che gravitano nella loro area siano esse città metropolitane o ambito provinciale come sta avvenendo per Parma come avviene per Bergamo Brescia Brescia è fortissima con i comuni dell'Interland nel poter garantire dei servizi io credo ritornando alla tua prima domanda che quella sia la strada su cui pontare e quello che noi stiamo cercando di trasmettere anche al Ministro Colau e al suo staff nell'utilizzo delle risorse finanziarie troviamo dei meccanismi che consentano di facilitare l'utilizzo di queste risorse immaginando anche di individuare in alcune realtà che si sentiranno di poter fare questo tipo di scelta e questo impegno che è un impegno gravoso ma possano essere loro soggetti in qualche modo che accompagnano e quindi gestiscono in termini di risorse finanziarie e garantiscano poi il servizio al piccolo comune dell'area quindi come centrale di acquisto centri di supporto per le elaborazioni di servizi chiamiamole come volete però l'idea adesso che si sta mettendo in piedi di utilizzare il meccanismo sul fondo innovazione quindi voucher staccati a singola amministrazione sulla base dimensionale dei comuni sì ma vediamo se riusciamo anche a trovare un meccanismo diciamo intermedio su base volontaria partendo dalle città metropolitane che ce l'hanno un po' nella loro definizione e anche con strumenti già avviati come il Pommetro ma non solo città metropolitane ma in realtà importanti come quelle che oggi abbiamo avuto modo di apprezzare e verificare in termini di qualità di servizi che sono stati realizzati altra cosa perché tanto vedo che il ministro ancora non c'è e allora no e proprio per noi vediamo qui che la serie ancora non è ma tanto poi ci sarà qualcun altro che potrà figuriamoci no no io potrei parlare per altre 40 ore però no no assolutamente no però invece proprio per un tema che poi forse presenterà anche il ministro all'interno del PNRR c'è anche una misura piccola importante però dal mio punto di vista che riguarda le città metropolitane e quindi la realizzazione di questa piattaforma mass mobility as a service individuata in fase sperimentale solo per le città metropolitane e partirà con una selezione che avverrà brevissimo di tre realtà distribuite possibilmente nord centro sud per poi allargarsi e trainare quindi queste tre pilota poi traineranno le altre ma nel momento in cui si sta ragionando su queste piattaforme sull'integrazione dei servizi saranno immaginate non solo per essere utilizzate a livello di città metropolitana ma essere patrimonio poi di tutte le realtà che vorranno e credo questo sia un'inizio è interessante da seguire con attenzione è una delle domande che farò al ministro anche perché è interessante che nasce anche una logica tra ministeri cioè da una parte il ministro dell'infrastruttura e della mobilità sostenibile dall'altra il ministro dell'innovazione quindi un progetto trasversale che secondo me è interessante e anche perché poi appunto ne parleremo con il ministro è veramente è un po' la sintesi dei ragionamenti di oggi cioè la città come piattaforma come piattaforma abilitante di processi ma anche soprattutto di modalità nuove nella logica grazie per l'aiuto nella logica che diciamo prima che è uno strumento di lavoro quello che vi restituiamo quest'anno oltre ovviamente al report che è disponibile già da questo momento online anche una piattaforma di lavoro se la regia può farcela vedere abbiamo rinnovato l'accesso ai dati e quindi attraverso questa piattaforma che ovviamente trovate la cui url trovate nel nostro sito potete accedere ai dati che strana visione un po' ristretta un po' sacrificata non fa niente ma il senso rimane che ci permette di vedere ovviamente i diversi indicatori le otto dimensioni ma soprattutto nella logica che diciamo prima anche il confronto fra territori questo dunque questo si è andato troppo veloce questa qual è la classifica generale sì questo è l'indice di trasformazione digitale lo vedete per valore per valore i valori medi di riferimento per ciascuna area geografica quindi un po' il ragionamento che facciamo prima rispetto alle due dimensioni importanti di riferimento l'ampiezza e quindi la popolazione residente e i valori medi di riferimento ma se riesci a farci vedere anche il benchmarking se così è possibile e potete farlo sia sugli indicatori finali vai con il benchmarking vedete potete questo lascia anche questo le due grandi città Roma capitale e Milano e per ciascun indice vedete il valore il valore della singola città Daniele vuoi commentarlo Sì diciamo siamo siamo nella logica di massima disclosure delle informazioni che per noi è un elemento essenziale della nostra cultura del nostro atteggiamento scientifico rispetto ai lavori che facciamo e a questo fine appunto rendiamo disponibile su piattaforma accessibile online tanto per essere coerenti con noi stessi tutti i dati degli otto indici che noi utilizziamo rappresentabili l'avete visti prima su cartografia geografica con diciamo i soliti cromatismi per l'indicazione dei dei livelli su valori singoli in termini di confronto tra città o confronto con le medie aggiungo a questo che per le città socie di ICT Club noi forniremo poi anche un report in cui diciamo indice per indice vengono confrontati i valori degli otto indici con le medie nazionali di ripartizione e di dimensione di riferimento un ulteriore servizio diciamo così a valore aggiunto prevede uno sviluppo di questa analisi a livello di singoli indicatori cioè a livello dei 35 indicatori anche su questo noi possiamo fornire i ranking i confronti i valori per ogni per ogni città questo strumento invece disponibile a tutti ed è facilmente navigabile e diciamo ciascuno può dare un'occhiata avere immediatamente una rappresentazione della propria situazione o della situazione generale in quel determinato settore io voglio cogliere l'occasione per ringraziare le persone che hanno lavorato a queste rilevazioni alle spalle di questo risultato ci sono letteralmente mesi di lavoro di un team di persone che e voglio ringraziare in particolare Clara e Francesca che su questo hanno lavorato con costanza in questi mesi sopportando anche il sottoscritto ed è stato un lavoro puntuale che noi speriamo di perfezionare nel corso degli anni tutto questo senza la partnership con Enel X non sarebbe stato onestamente possibile perché diciamo non avremmo potuto destinare indicare questi mesi di lavoro a queste rilevazioni ci auguriamo che soprattutto attraverso il lavoro del tavolo di metodo dentro ai city club e con la collaborazione dei nostri partner scientifici come Tagliacarne e Istat di poter continuare negli anni ad andare sempre un po' più avanti sapendo che diciamo peraltro dobbiamo inseguire una frontiera in movimento ecco questa è la complicazione rispetto ad altri strumenti tradizionali nel senso che le cose cambiano magari tra qualche anno avremo qualche altra ecco la smart city control room è un tema la cui presenza o senza oggi possiamo misurare in termini molto vaghi chi è partito chi non è partito e magari tra qualche anno invece saremo in grado di misurare offre questo o piuttosto che quest'altro ringrazio veramente tutti sembri mentana quando stiamo aspettando oddio stiamo aspettando le proiezioni bisogna prendere tempo adesso lo capisco poveraccio e quindi andiamo un pochino avanti mi stanno dicendo che il ministro ha avuto un'emergenza arriverà quindi andiamo un pochino avanti con il programma ecco il ministro ministro benvenuto ministro mi senti ecco adesso dovresti sentirmi benvenuto ministro ministro Enrico Giovannini ministro delle infrastrutture e delle mobilità e della mobilità sostenibili ciao Enrico benvenuto noi abbiamo lavorato fino ad adesso un paio d'ore con i colleghi sia qui in sede se la regia fa vedere come siamo organizzati sia qui in sede sono rappresentanti delle diverse città italiane sia a distanza con alcuni colleghi ovviamente vedo 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 Cremona collegati in rete e così come poi con un pubblico di oltre 500 persone ci stanno seguendo da questa mattina abbiamo presentato la decima edizione della nostra della nostra della nostra indagine cosa emerge beh tu l'hai vista che te l'abbiamo anticipata c'è una decisa accelerazione di questi ultimi due anni rispetto a quelle che sono le dimensioni digitali delle nostre città rimangono appunto delle retratezze complessive di sistema visto l'indice desi quest'anno ci colloca in ventesima posizione in Europa con un salto di 5 posizioni ma sempre ventesimi rimaniamo quindi abbiamo una retratezza ma quello che è più evidente nonostante il salto in avanti nonostante il fatto che le città questi due anni abbiano utilizzato al meglio le nuove tecnologie le piattaforme digitali per poter stare vicino alle famiglie alle imprese ai cittadini questa differenza territoriale cioè comunque anche sul tema della trasformazione digitale abbiamo un'Italia più colori abbiamo un'Italia più colori dove appunto puoi immaginare la differenza importante tra il nord del centro e il sud del paese la domanda che ti farei parte proprio da questa cioè come sappiamo benissimo che il ruolo delle città e dei territori per come si abusa dire scaricare a terra quelli che sono gli obiettivi del PNRR questa grande opportunità che il paese ha come far sì il tuo ministero è uno dei ministeri più importanti da questo punto di vista come in termini gli obiettivi di risorse come fare in modo che questa opportunità sia un'opportunità per tutti non per dividere ancora il paese ma invece per cercare di farlo diventare unito omogeneo verso un progetto comune prego ministro grazie intanto complimenti per questo lavoro ci confrontavamo su questo aspetto prima nella mia precedente vita e indubbiamente questo tipo di rilevazioni di indici compositi sono utili soprattutto perché domandano sì ma poi cosa viene dopo cioè è una fotografia non tanto per la classifica quanto per il miglioramento e da questo punto di vista il fatto che ci siano questi miglioramenti che il PNRR ma non solo il PNRR preveda investimenti rilevanti pone al centro della questione non una questione tecnica ma una questione di governance vorrei ricordare da questo punto di vista anche la novità contenuta nel decreto legge fiscale che è in conversione al il Parlamento sulla modifica alla legge sulla privacy che rende rigoroso ma molto più semplice l'uso da parte delle amministrazioni pubbliche dei dati quando c'è una finalità pubblica guardate questo è un passaggio molto molto rilevante perché sappiamo che storicamente il nostro paese ha avuto un atteggiamento molto restrittivo su alcuni aspetti la nuova normativa apre la strada a una semplificazione importante per progetti innovativi da parte delle pubbliche amministrazioni sempre sotto il controllo successivo da parte del garante ma il riconoscimento dell'interesse pubblico è qualcosa che viene rafforzato ed è importante proprio perché nei prossimi anni anche grazie a PNR ma non solo l'uso dei dati diventerà ancora più centrale per fornire servizi integrati ai cittadini questa mattina ero all'evento organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile sul tema del sharing della mobilità vehicle sharing ormai non si parla più di car sharing perché chiaramente ci sono anche le biciclette i monopattini e tutto il resto noi abbiamo insieme al Ministero per la Transizione Digitale un progetto sul MAS Mobility as a Service che richiede l'integrazione di banche dati detenute da diversi operatori sotto un coordinamento che offra al cittadino una possibilità di una piattaforma unica per acquistare titoli di trasporto per muoversi dal punto A al punto B usando diversi strumenti lo dico perché ci sono grandi opportunità e direi che l'Italia su questo anche grazie a tante start-up è pronta a fare il salto di qualità dal punto di vista tecnologico il tema della governance è forse quello più complesso perché l'innovazione digitale in realtà tocca tutti gli aspetti delle politiche da quelle legate alla mobilità a quelle delle edilizie a quelle del controllo fiscale eccetera eccetera cosa si può fare per migliorare il governo sta ricostituendo il comitato interministeriale per le politiche urbane che da tempo ormai era inattivo per organizzare al suo interno meglio la partecipazione dei vari ministeri alla costituzione alla creazione e poi all'attuazione di quella che contiamo di chiamare l'agenda urbana nazionale orientata allo sviluppo sostenibile e quindi questa agenda diventa il coté urbano della strategia nazionale di sviluppo sostenibile fatta in linea con 17 obiettivi dell'agenda 2030 e le indicazioni anche del Green Deal europeo questo coordinamento tra ministeri dovrebbe portare a una maggiore fluidificazione ma soprattutto a una migliore allocazione delle risorse ingenti che arriveranno perché non c'è solo appunto il PNRR c'è il Fondo Sviluppo e Coesione ma poi c'è anche ci sono anche i fondi europei ordinari che vedranno nelle città degli attori fondamentali per fornire appunto servizi nettamente migliorati per migliorare la qualità della vita delle persone ridurre l'inquinamento e l'emissione di CO2 e così via la domanda vera è come le città si organizzano da questo punto di vista e nel rapporto cambio cappello con il mio vecchio cappello di portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile il primo rapporto territoriale il secondo è in preparazione verrà presentato tra qualche giorno mostrava come tante città nel definire il proprio piano strategico ormai utilizzino questi concetti e quindi queste categorie che sono d'altra parte fondamentali per proporre anche progetti per i fondi comunitari e questa è la mia ultima parola su questi aspetti il PNRR ci sta insegnando che il limite è e sarà non la disponibilità di risorse per una volta ma la capacità di progettare progettare opere progettare innovazioni progettare rigenerazione urbana e così via dunque da questo punto di vista bisogna fare un salto anche qui la digitalizzazione è importante perché anche nella progettazione degli interventi edilizi o delle infrastrutture le nuove tecnologie digitali consentono di fare un salto di qualità straordinario per evitare errori per integrare diversi aspetti per anche agevolare le prese di decisione proprio perché i progetti digitalizzati aumentano la trasparenza e quindi riducono anche i rischi di infiltrazioni mafiose o comunque di comportamenti inadeguati dovuti all'opacità delle procedure ecco da questo punto di vista questo lavoro che voi svolgete ha nuove opportunità nuove sfide ma è assolutamente indispensabile e le città sono sulla frontiera veramente dell'innovazione con questa nuova strategia nazionale si potrebbe fare un salto di qualità veramente imponente ed è la sfida che abbiamo tutti davanti grazie grazie ministro che come tu stesso hai messo in evidenza hai sempre eseguito questo lavoro come presidente istat come portavoce dell'asris e adesso come ministro questo lavoro che stiamo facendo ormai appunto da diversi anni senti hai qualche minuto per un paio di domande se è possibile molto rapidamente perché è un incontro grazie già due minuti fa Antonella Caldianci prego buongiorno ministro veramente al volo una domanda più che una domanda anche una richiesta noi siamo partiti con un intervento molto interessante lanciato dal suo di Castero ovvero il sostegno la nomina delle figure del mobility manager nelle città oltre 50.000 abitanti con anche un fondo dedicato ad accompagnare misure che potessero agevolare una serie di servizi e soprattutto la raccolta di dati importantissimi che noi ancora oggi non abbiamo dei flussi dei movimenti in ambito urbano dai le imprese con oltre 100 dipendenti le scuole e tutti gli enti con un numero superiore di 100 dipendenti questa misura è una misura importantissima io le chiedo visto che parliamo tantissimo di dati open interventi infrastrutturali significativi che vengono finanziati dal suo ministero non sarebbe opportuno dare continuità a questa misura perché sarebbe esattamente quel collegamento necessario nell'analisi dei flussi e la programmazione di servizi mirati e qui si integrerebbe benissimo anche la piattaforma mass sulla quale si sta lavorando grazie la risposta è chiaramente sì ed è per questo tra l'altro che nel disegno e legge di bilancio io ho fatto introdurre un nuovo capitolo nella parte investimenti che riguarda proprio la mobilità sostenibile al cui interno è possibile finanziare anche progetti di questo tipo perché il salto di qualità che i mobility manager sono chiamati a fare è decisivo per l'organizzazione delle città il 2022 vedrà anche probabilmente la decisione di tante imprese di rilocalizzazione o dell'uso magari di spazi di co-working al posto dell'unico edificio centrale anche le pubbliche amministrazioni sapete all'inizio dell'anno devono dare dei piani sul smart working il 2022 è centrale su questi aspetti e al nostro interno anche visto che il dipartimento che si occupa di opere pubbliche adesso si occupa anche di politiche urbane e abitative oltre che di altre cose stiamo noi stessi determinando un gruppo di riflessione su come al nostro interno e poi di servizio al Cipu perché noi appunto vogliamo contribuire al funzionamento del Cipu il coordinamento delle diverse politiche tra cui quello che è stato appena ricordato può essere migliorato io purtroppo veramente grazie non ti tratteniamo d'oltre tutto grazie grazie ministro grazie ministro Eroco Giovannini grazie allora si mi dicevano che il ministro aveva per noi interrotto un incontro istituzionale e quindi non poteva tenersi questo è come vi avevo detto ci prendiamo 5-10 minuti massimo ovviamente uscite fuori è meglio ditemene le cose fra 5-10 minuti è pronto no? si fra 5-10 minuti è pronto salutiamo coloro che ci stanno seguendo in streaming e quindi salutiamo anche i colleghi da 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 Cremona da Modena e chi c'è non vedo altri in questo momento fra 10 minuti ci vediamo qui ripeto fuori non sta piovendo quindi si può stare un po' all'aria aperta e si si e poi continuiamo a lavorare riprendendo la discussione e finiamo con ne vuoi parlare tu o c'è no c'è la clip no? chiudiamo con questa clip che è la clip del nostro City Club ci vediamo qui fra 10 minuti dopo la clip iCity Club è il luogo di incontro ideale per gli attori dell'innovazione urbana uno spazio digitale per l'analisi la riflessione il confronto e l'apprendimento sulle sfide e le idee emergenti che caratterizzano il futuro delle città giunto alla sua seconda edizione iCity Club accompagna le città nelle azioni e negli interventi per abilitare cittadini e imprese a nuove forme di prosperità sostenibili e intelligenti come? attraverso un set di servizi e strumenti innovativi e flessibili il benchmark della trasformazione digitale uno strumento di posizionamento e di confronto a partire dai dati della ricerca annuale iCity Rank contenuti editoriali per valorizzare i processi di innovazione delle città aderenti e per rimanere sempre aggiornati sulle agevolazioni e sui finanziamenti rivolti alle istituzioni locali sessioni di lavoro riservate per confrontarsi su pratiche progetti e politiche di innovazione urbana e per sperimentare tools per l'analisi il monitoraggio e l'engagement civico infine iCity Club permette di rafforzare le competenze trasversali dei dipendenti pubblici grazie ad un percorso formativo della FPA Digital School rivolto al personale degli enti aderenti Entra a far parte di iCity Club per informazioni consulta la pagina dedicata sul nostro sito o scrivici a iCityClub chiocciolaforumpa.it